Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti all'evento Il ruolo dell'economia circolare nella politica energetica europea. Io sono Emanuele Bonpan, sono il direttore della rivista internazionale di economia circolare Materia Rinnovabile, sarò il moderatore di questa giornata di lavori molto interessanti, io sono appena rientrato proprio da Bruxelles, tra l'altro siamo qua nella sede del Parlamento europeo qua a Roma, c'è stata la scorsa settimana la stakeholder conference sull'economia circolare che è la conferenza più importante di tutti gli attori dell'economia circolare dell'Unione che partecipano per portare consigli, idee, suggerimenti per lavorare concretamente su proposte di direttive, di piani, di finanziamenti all'interno della Commissione e del Parlamento. Il tema economia circolare e energia è stato il tema di queste due giorni di lavoro, infatti è interessante ritrovarmi qua a Roma a parlare proprio di questa tematica per capire come legare il tema appunto dell'economia circolare, quindi il riciclo, riuso, rigenerazione, nuovi modelli di business delle materie, di tutte le materie, il tema critico dell'energia e della transizione energetica e quello ovviamente implicito della decarbonizzazione, si è parlato tanto del ruolo di come l'economia circolare contribuirà da un lato alla sicurezza energetica dell'Unione, quindi un tema assolutamente politico, e dall'altro dal tema della decarbonizzazione, altro tema di sicurezza energetica centrale, si stima che l'economia circolare potrebbe addirittura a livello globale contribuire alla riduzione di 9,8 milioni di tonnellate di CO2, quindi un contributo estremamente importante. Ma se l'energia non può fare a meno dell'economia circolare, anche l'economia circolare non può fare a meno ovviamente del tema dell'energia, quindi di come effettivamente può essere messa a terra questa economia circolare in maniera efficiente. Tema molto complesso, come vedremo durante la giornata di lavoro di oggi, estremamente d'attualità e direi fondamentale da iniziare a mettere a terra per capire le diramazioni e lavorare concretamente e fattualmente per un'implementazione concreta di questa joint venture tra questi due mondi, che sempre di più si stanno parlando e sempre di più capiscono la necessità di avere un rapporto sinergico. Io lascio subito la parola a Carlo Di Primio, Vicepresidente dell'AIE, l'Associazione Italiana Economisti dell'Energia, per aprire i lavori, e poi Riccardo Piunti, Presidente del CONO, il Consorzio Nazionale degli Ori Minerali usati. Caro Di Primio, prego. Grazie e buongiorno a tutti i partecipanti a questa giornata che è stata voluta, devo ricordarlo, dal Presidente Piunti e dal Presidente di AIE, GB Zorzoli, che penso tutti voi conosciate, ma che purtroppo per una indisposizione non ha potuto oggi essere qui presente. L'ho sentito ieri sera comunque e devo dire che sta bene e manda i suoi saluti e il suo augurio per questa nostra giornata. Come dicevo, questo convegno è stato voluto da Riccardo Piunti e da GB Zorzoli, cioè da due organizzazioni, AIE da una parte e CONOU dall'altro, che hanno ruoli diversi, ma che si sono trovati e che si ritrovano sulla trattazione di una tematica che oggi è di piena attualità. L'AIE, credo che un po' tutti voi la conosciate, è un'organizzazione che ha come finalità non la rappresentanza di interessi, ma l'approfondimento, un'organizzazione con valori scientifici di ricerca che si sostiene attraverso gli studi che effettua, oltre che naturalmente le quote di adesione dei vari soci. È parte di un network internazionale che naturalmente le consente di guardare anche oltre i confini italiani e direi anche europei, perché è un'associazione presente in 80 paesi, in 87 paesi per essere più precisi. Io sono appena tornato da Riyadh, dove abbiamo avuto la nostra conferenza internazionale per il 2023 con una forte partecipazione e direi anzi è stata la prima conferenza nella quale si è tornati in presenza. Ed è una cosa che voglio dire è mancata a tutti noi. Adesso ho parlato di un episodio a livello internazionale, ma questo vale credo anche per le nostre possibilità di incontro a livello italiano. Da parte delle nostre persone esperte c'è ancora qualche dubbio sulla volontà di ritornare come è stato in passato a una presenza fisica diciamo a queste riunioni, perché tutto sommato l'esperienza dell'utilizzo del sistema online rende più agevole da molti punti di vista la possibilità di partecipazione. Però io ritengo personalmente che il rapporto diretto, la presenza fisica dia un altro valore anche a queste e a queste occasioni d'incontro. Venendo al tema di oggi quindi il tema dedicato all'economia circolare alla politica, al ruolo dell'economia circolare nella politica energetica europea, è un argomento sul quale non voglio che fare pochi accenni perché il livello dei partecipanti sia come relatori sia come partecipanti alla tavola rotonda che seguirà e tale che sicuramente non sono io che posso dare i maggiori input su questo argomento. Come AIE, come associazione che ripeto ha finalità di ricerca e di studio abbiamo anche dedicato uno studio al tema dell'economia circolare nel 2020 e quindi è un argomento che abbiamo seguito e che seguiamo nel suo iter di sviluppo e di crescente importanza nell'ambito europeo e nazionale. I primi approcci al tema dell'economia circolare a livello europeo hanno guardato soprattutto alla soluzione di un problema che era il problema dei rifiuti, come ricorderete le prime direttive erano quelle finalizzate ad evitare la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e quindi avevano soprattutto un valore, un obiettivo conservativo. Però in questo periodo, proprio in questa prima fase, devo dire che anche per venire al tema che poi sarà centrale con l'intervento di Riccardo, il problema del recupero degli oli usati fu proprio, nacque proprio in questa fase iniziale. Però forse quando mi si dice per quale motivo l'Italia è tutto sommato all'avanguardia in questo campo, io credo che l'esempio del CONOU e degli altri consorzi che poi sono seguiti sul recupero dei vari scarti che sia nel settore dell'olio, sia nel settore degli imballaggi e tutti gli altri campi su cui sono nati i consorzi sono proprio un esempio, forse sono rappresentativi di questa consapevolezza della possibilità di valorizzare quelli che erano inizialmente visti soltanto come rifiuti. Penso quindi che se l'Italia è riuscita ad acquisire questa riconosciuta leadership, quantomeno nello sforzo di valorizzare i rifiuti, un valore, un merito va dato anche all'attività che ad esempio il Consorzio degli Oliusiati ha saputo dare nel tempo. Io venendo dall'unione, dal settore petrolifero ricordo la nascita di CONOU e ricordo anche come questo argomento veniva vissuto all'interno delle aziende petrolifere. e un aspetto importante era proprio la consapevolezza che anche all'interno delle aziende c'era sulla possibilità di risolvere una tematica come questa, ma riconoscendo e dando un valore a quello che veniva inizialmente considerato soltanto come un elemento negativo del quale bisognava trovare il modo di disfarsi. Altro elemento che probabilmente ha influito su questa capacità dell'Italia di assumere un ruolo di avanguardia è la tradizionale carenza che l'Italia ha di materie prime e quindi la necessità di trovare tutte le forme, tutti i modi per poter riutilizzare, per poter valorizzare quello che altrimenti andava ricercato con nuove acquisizioni, nuove importazioni. Direi che quindi l'Italia si è trovata naturalmente sul percorso che l'Unione Europea ha inizialmente, ripeto, per risolvere una problematica di eliminare un danno per l'ambiente successivamente e gradualmente rendendosi conto che era possibile trovare una valorizzazione e quindi l'Italia si è inserita in questo solco direi con virtuosità, fatemi usare questo termine. Oggi l'economia circolare con il Green Deal e con l'obiettivo posto dall'Unione Europea, non è soltanto europeo, è globale, di andare verso la decarbonizzazione e quindi procedere con un percorso di transizione verso questo traguardo, ha individuato nell'economia circolare uno dei pilastri della sua azione, degli obiettivi prioritari della sua politica. quindi direi che siamo a metà del percorso, sicuramente non abbiamo ancora raggiunto gli obiettivi anche perché tornando all'Italia la virtuosità che abbiamo riscontrato, per esempio da parte delle imprese, da parte di alcuni soggetti anche istituzionali per la valorizzazione di questi residui, materie prime e seconde chiamiamole come vengono generalmente definite, non hanno ancora chiuso il cerchio su quella parte dei rifiuti sono i rifiuti urbani naturalmente sui quali ancora non si è riuscito a fare un quadrato nel senso che sì ci sono esempi in Italia positivi che vanno sicuramente in una direzione europea ma ci sono ancora molti aspetti e molte aree nelle quali queste problematiche ancora vanno affrontate e risolte. Io data la presenza di illustri speakers e partecipanti alla tavola rotonda non voglio addentrarmi ulteriormente, voglio solo tracciare un po' di tematiche sulle quali sono certo sentiremo da parte di veri esperti, io non mi considero un esperto in questa materia, quali sono le linee sulle quali ci dobbiamo attendere nei prossimi anni di lavorare. Grazie. Grazie. Grazie per questa introduzione, volevo passare la parola adesso a Riccardo Piunti anche per capire le ragioni di perché fare un convegno su questa tematica proprio adesso. Prego Riccardo Piunti. Per iniziare solo una parola, io intanto ringrazio Carlo perché ha già parlato del Consorzio e questo mi fa piacere perché almeno non in questa mia presentazione non voglio parlare del Consorzio. vorrei solo anche salutare una persona che oggi non è qui che dovrà esserci, che è Jacopo Giriberto che sicuramente molti di voi conoscono e che ha avuto un grave lutto per cui da parte mia e spero anche da parte vostra, di coloro che lo conoscono, un grande abbraccio perché ovviamente è stata una brutta situazione quella in cui lui si trova adesso. Detto questo passiamo al nostro convegno. Allora io non voglio parlare di economia circolare, voglio parlare di storia. Quindi facciamo una storia. Che succede? No, no, io non c'è. Non era, ha funzionato. Io ero già andata a me. Vorrei parlare di storia e vorrei parlare di questi quattro personaggi che vedete qui rappresentati. Uno è Jean-Baptiste Fourier, l'altro è Charles Keeling, Wallace Broker e Kenneth Boulding. Non sono impazzito, questa storia ha poi un senso, magari cerchiamo di ricostruirla. Cominciamo da Fourier. Fourier è ben noto a tutti coloro che hanno in qualche modo studiato nel corso dell'Orio Studi la termodinamica. Fourier ha scritto nel 1824 un testo molto interessante dove ha scoperto, seppure ovviamente non conoscendone gli aspetti più tecnici, le motivazioni più scientifiche, ha scoperto l'effetto serra. Cioè lui ha capito che la Terra non era come un pezzo di pietra in mezzo all'universo che riceveva il calore del sole, i raggi del sole, li rifletteva, perché altrimenti si sarebbe raffreddata. La Terra aveva qualcosa, un'atmosfera che in qualche modo garantiva che una parte del calore venisse trattenuto dentro. Quindi ha scoperto che esisteva l'effetto serra, 200 anni fa, ha scritto nel 1824, sono passati 199 anni. Il secondo personaggio è un personaggio molto importante, si chiama Charles Keeling. Lui con un sistema infrarossi nel 1958 cominciò a misurare il tenore di CO2 nell'atmosfera. Trovava dei numeri un po' strani, gli ballavano un po' questi numeri, non capiva. Cercò di andare a misurare in altri posti. Devo dire che il suo lavoro non era molto apprezzato, nel senso che poi durante la sua storia ha dovuto difendere il suo laboratorio e le sue misure da salti di varia natura, da infusioni, cambi di proprietà o comunque di direzione del laboratorio, mancanza di fondi e quant'altro. Però poi ha capito qual era un po' il senso di queste misure un po' ondilaghe e ha trovato che c'era invece un dato omogeneo. Cioè che in fondo le misure di CO2 avevano una loro stabilità e che le oscillazioni che lui rilevava erano stagionali. Cioè erano legati al ciclo di nascita e morte delle piante. E quindi al di là di quelle oscillazioni, voi le vedete nel grafico, lui ha cominciato nel 1958 e non ha mai mollato nel laboratorio di Munaloha, nell'Hawaii, a misurare il tenore di CO2 nell'atmosfera. È andato avanti fino al 2005 e poi lui è morto. Adesso c'è sempre un killing lì a questo laboratorio, che è il figlio, che continua a misurare. Io il grafico non ho bisogno di illustrarvelo, credo che parli da solo. Si parte da 310 ppm e si arriva agli attuali 420 ppm. Non abbiamo molto da commentare. Forse qualche domanda sì ce la possiamo fare, ma poco da commentare. E devo dire lui con pervicacia insistette perché voleva continuare questo lavoro e abbiamo una serie storica unica, dal 1958 a oggi, di queste misure fatte all'Hawaii. Wallace Bruecker è uno che si occupava di clima e lui ha incrociato CO2, temperature, asse del tempo e nel 1970, oltre 50 anni fa, ha fatto una proiezione e ha detto ma se continua così nel 2010-2020 sarà aumentata la temperatura di un grado, un grado e cento rispetto all'epoca pre-industriale. Beh, tutti quelli di voi che hanno lavorato in azienda sanno che i previsori e quelli che fanno gli scenari hanno un destino triste, non indovinano mai. Io, adesso qui c'è una collega dell'ENI che si è occupata di questo, che io conosco, ci sono altre persone che conosco, io stesso in altri tempi ho fatto questo mestiere. perché abbiamo il pregio di non indovinarci mai, quindi l'unica cosa sicura è che quello che prevediamo non accadrà. C'era un noto economista, Adelman, che diceva che l'unica cosa che c'è di certo nelle previsioni è che sono sbagliati. Appunto. Ecco, purtroppo però, un signore che si chiama Wallace Bruecker, le previsioni le indovinate. Se guardiamo la sua curva, temperatura, asse del tempo, CO2, è giusta. Cioè lui aveva previsto, nel 1970, in un articolo scritto nel 1970, quello che sarebbe accaduto. E veniamo al quarto personaggio di questa storia, che è Kenneth Boulding. Kenneth Boulding è uno degli inventori della teoria dei sistemi. Quella che almeno quando io studiavo all'università, così si chiamava, adesso non so se abbia cambiato nome. Negli anni Sessanta lui capì che il nostro pianeta era un sistema non chiuso del tutto, perché ovviamente c'aveva un trasferimento di energia dall'esterno all'interno e viceversa, ma che era un sistema chiuso, da cui ovviamente noi non possiamo uscire. E quindi intui una cosa fondamentale, e qui arriviamo all'economia circolare, è che il nostro modo di operare era un modo che lui paragonò al Far West. Nel Far West i cowboy arrivano, ammazzano gli ultimi 4-5 indiani, qualcuno coltiva, qualcuno devasta, e qualcuno magari inseguita dallo sceriffo, va avanti, si sposta verso Ovest. Tutti noi sappiamo, l'abbiamo visto nei film che parlano della fine del West, dell'epoca del West, che alla fine, andando forse di andare verso Ovest, si arrivava all'Oceano Pacifico, cioè si arrivava al mare, era finita la festa. E Boulding disse, attenzione perché noi siamo su questa strada, noi dobbiamo ragionare in un altro modo, noi dobbiamo ragionare come se fossimo in un'astronave, una grande astronave, che è il pianeta Terra, in questa grande astronave, all'epoca sua forse erano 4-5 miliardi, adesso sono 8 gli astronauti, ma non ne possiamo uscire. E quindi il nostro modo di consumare, il nostro modo di utilizzare i rifiuti, il nostro modo di comportarci, le cose che facciamo devono tenere conto che siamo dentro un'astronave. Ecco, questo è l'insegnamento, il punto di partenza dell'economia circolare. Boulding l'ha inventata, non nel senso che ci ha spiegato come fare gli impianti o come recuperare i rifiuti, ma l'ha inventata perché ci ha detto che l'economia circolare era fondamentale da questo punto di vista. Vediamo i numeri però. Allora, io sono diventato appassionato lettore di questi report annuali del Circularity Gap, che è un istituto, associazione indipendente che valuta il grado di circolarità del mondo. Nel 2020 ha detto che su 100 miliardi di tonnellate di materiali prelevate dal pianeta, circa 15 se ne vanno in fumo, e questo lo sapete tutti perché tutti noi bruciamo carburanti e combustibili. Poi ce ne sono 31 che vanno a stock, cioè sono nuovi palazzi, nuove strade, nuovi edifici, nuovo cemento al posto del prato o della natura. Poi ci sono rifiuti perduti e dispersi per 46 miliardi di tonnellate e solo 8,6 sono recuperati. Beh, voi direte, com'è adesso questo grafico, com'era? Ecco, quattro anni prima quel numero non era 8,6, ma era 9,1%. Oggi è 7,5%. Ma non perché sia diminuito il riciclo, ma perché ha aumentato il consumo. Cioè le risorse sono sempre più. Hanno fatto un trend, quelli del Circularity Gap, che ve lo offro come regalo, eccolo qua. Quello è il trend, cioè al 2050, quando noi dovremmo aver vinto la battaglia per la transizione energetica e azzerato le emissioni di CO2, potremmo essere a 170 miliardi di tonnellate prelevate dal pianeta. Ecco, io non credo che vinceremo la battaglia se non cambiamo anche questa di rotta. Cioè sono due rotte che devono essere cambiate entrambe. Le emissioni di CO2, che peraltro, ha detto ieri la IEA, l'altro ieri, sono aumentate ancora nel 2022 dell'1%, le emissioni a scopo energetico e industriale, e il consumo di materiali. Non possono non andare insieme. Quindi economia circolare e transizione energetica sono due pilastri che devono camminare insieme. D'altra parte, il trend nel consumo di materiali è sicuramente scioccante. Se lo vedete questo grafico, la linea verde è il consumo di materiali, con l'asse a sinistra, i miliardi di tonnellate, quello è il trend. Quella blu è la popolazione. Sono grafici impressionanti entrambi, ma certamente quello verde è più veloce di quello blu. E quindi stiamo andando su un consumo sempre più grande, oltre l'aumento stesso della popolazione. E adesso troviamo il punto di unione fra queste due cose. Il punto di unione è che l'economia circolare, per sua natura, ci insegna subito che per farla funzionare c'è bisogno di cambiare i comportamenti, i costumi. Se non facciamo la raccolta differenziata. Quindi ce l'ha un po' nel DNA l'economia circolare. La transizione energetica è un po' meno. C'è, non dichiarato, non detto forse, una sorta di mito che io non condivido, ma c'è un mito. Oggi noi in Italia abbiamo 39 milioni di automobili. Vabbè, le trasformiamo in 39 milioni di auto elettriche, a idrogeno, a biofuel, come volete voi. E ne abbiamo fatto. Ecco, credo che questa sia una stupiraggine, una follia. Non funzionerà. Quindi i due pilastri della transizione energetica e dell'economia circolare, il tavolo, ha una terza gamba, perché come sapete tutti i tre tavoli, i tavoli con due gambe non si reggono. La terza gamba è comportamenti e costumi. E questa è la gamba fondamentale da costruire insieme agli impianti dell'economia circolare, insieme agli impianti delle energie rinnovabili, ma senza questa terza gamba il tavolo casca. E quindi, per questo che, secondo me, economia circolare e transizione energetica, chi si occupa di energia in qualche modo, sono qui insieme. perché alla fine fanno lo stesso lavoro che cercare di tenere in piedi questo tavolo che altrimenti rischia di cadere. Non ho parlato del consorzio, però ci tenevo a fare questa premessa. Grazie. Grazie. Grazie a Riccardo Piunti e caroli primi. Avete messo le basi intellettuali per questa riflessione. Quindi vi ringrazio e chiedo anche di accomodarvi. Continueremo, poi avremo anche modo di parlare del consorzio dopo perché dovremo comunque parlare dei modelli e quindi nella prossima parte del convegno cercheremo di capire a che punto siamo con l'economia circolare, che cosa stiamo effettivamente cercando di mettere a terra, quali sono le tematiche anche critiche. Sappiamo tutti, ad esempio, che sul tavolo europeo e adesso anche su quello italiano quello dei critiche a Roma-Tirias è un elemento chiave per la transizione energetica che è stato affrontato con un act dal punto di vista della Commissione e oggi anche in Italia abbiamo un tavolo di lavoro sulle materie prime e critiche per la transizione energetica. Ma non è l'unico argomento, ce ne sono tantissimi. Riccardo Piunti ha menzionato il tema dei comportamenti, il tema di che ruolo possono avere le persone, quindi un tema fortemente sociale, culturale ed educativo. Ci c'è tutto il tema dei modelli di business anche per capire come si trasformerà il mondo dell'energia. Noi pensiamo di trasformare tutte le auto in auto elettriche, ma probabilmente non sarà così in futuro ci troveremo di fronte a nuovi modelli di mobilità e così ancora dicendo vedremo nuovi modi di produrre industrialmente che richiederanno anche sempre meno energia e si produrrà sempre magari meno oggetti di proprietà, si passerà sempre più a prodotti come servizio e questo è 30 anni che il mondo dell'economia circolare insiste molto sulla trasformazione proprio dei consumi e quindi dei costumi culturali. Quindi per fare il punto sull'economia circolare e sul rapporto col mondo dell'energia invito i prossimi quattro relatori Pierluigi Zerbino ricercatore in economia circolare e innovazione digitale dell'Università di Pisa ben arrivato Bruno Cova Advisory Services and Studies Director del Cesi il Centro di Studi Internazionali ben arrivato Gianluca Grigatti docente di architettura e design del Politecnico di Torino e infine Lucia Muto responsabile dell'area strumenti economici del Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare dell'ISPRA l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale panel ricchissimo io partirei subito con Pierluigi Zerbino che ho letto un suo interessante articolo che ci parlerà del rischio di rebound nei sistemi circolari quindi di capire quali sono le criticità eventuali all'interno di un sistema circolare chiuso senza nuovi modelli di business effettivamente si rischia di avere un effetto rebound che adesso ci spiegherai quindi non avere gli effetti desiderati dell'economia circolare tema che io non conoscevo quindi sono estremamente curioso di sentire prego grazie Emanuele per l'introduzione buongiorno a tutti sono contento di essere qui con voi per condividere questo evento vorrei usare questo intervento iniziale proprio per portare la vostra attenzione a un problema che può rivelarsi annoso nel tempo che è quello del rischio dell'effetto rebound nei sistemi circolari per farlo ho preso un estratto del Circular Economy Action Plan noto sicuramente a tutti i presenti che mostra alcuni obiettivi da raggiungere cioè diminuire le emissioni inquinanti e disaccoppiare la crescita economica e la produzione dall'utilizzo e quindi estrazione di risorse vergini il tutto limitando il consumo delle risorse e aumentando la circolarità dei materiali il che come ben sapete vuol dire istituire in qualche modo un'economia circolare attraverso pratiche che vanno dal riciclo al recupero al riuso alla rimanifattura per aumentare il tempo in cui i materiali e i prodotti permangono in un sistema economico tuttavia questo può portare a delle conseguenze inattese quale questo effetto rebound che è un fenomeno secondo cui una pratica di economia circolare che effettivamente diminuisce le emissioni a livello microeconomico per esempio in un singolo nodo di una filiera o un impianto produttivo per una serie di meccanismi che condividerò con voi a breve può ingenerare a livello globale una maggiore produzione e consumo e questo può compensare parzialmente o totalmente i benefici ambientali potenzialmente ottenibili in certi casi può persino surclassarli è un problema aperto è un problema poco noto ma che ha delle radici piuttosto vecchie perché deriva dall'ambito dell'efficientamento energetico vi chiedo un piccolo esercizio di fantasia spostiamoci a circa un secolo fa a Londra vittoriana 1865 un economista dell'epoca William Jamons si fa una domanda molto interessante si chiede se il carbone presente in Inghilterra sia sufficiente per garantire lo sviluppo economico dell'Inghilterra e verifica empiricamente che i miglioramenti tecnologici che aumentano l'efficienza e l'uso del carbone in realtà causano un aumento del consumo del carbone a livello nazionale circa un secolo dopo dopo le due crisi petrolifere e l'OPEC dove i ricercatori riescono a generalizzare questo postulato ai miglioramenti di efficienza energetica in generale prescindendo al carbone invece poco più di un lustro fa Zinc e Jeyer contestualizzano questo effetto che è proprio l'effetto rebound nell'ambito dell'economia circolare contrapponendo i prodotti primari cioè quelli realizzati con materie primevergine ai prodotti secondari cioè quelli realizzati con dei prodotti di seconda mano recuperati vorrei subito provare a fare un esempio per la produzione di un maglione questa è una filiera molto semplificata si è un produttore primario che realizza il maglione rosso in figura con delle emissioni EP e a un prezzo PP e questo maglione viene messo a disposizione ai clienti che lo usano poi il maglione giunge a fine ciclovita e panel waste bisogna immaginare che all'interno il cestino verde confluiscano i rifiuti anche da tanti altri produttori primari ipotizziamo quindi che ci sia un produttore secondario che riesce a trovare un modo per recuperare questo maglione a fine ciclovita e realizzare uno nuovo che è quello in basso con delle emissioni minori e che è venduto a un prezzo minore a questo punto il cliente finale ha una scelta ha davanti a sé il maglione primario e quello secondario nel caso ideale tutti i clienti vanno sul prodotto secondario che è meno inquinante meno costoso e quindi effettivamente ho meno emissioni perché la produzione secondaria è meno inquinante di quella primaria e nel tempo visto che diminuirà la domanda al prodotto primario diminuirà anche l'estrazione di materie primarie tuttavia un cliente a fronte di questa scelta può anche andare sul prodotto primario anche se costa di più perché magari ha delle caratteristiche tecniche più interessanti perché magari reca con sé dei valori che il prodotto secondario non include in questo caso quindi ho una somma delle emissioni al primario e al secondario ma non ho riduzione dell'estrazione in materie prime e non penso solo alle fibre ma anche all'energia necessaria per supportare la produzione si può anche verificare un caso che secondo me è ancora peggiore in cui un cliente si trova davanti a un prodotto secondario che è meno costoso meno inquinante e si dice io ne acquisto due per una questione di elasticità della domanda rispetto al prezzo e questo è un caso ancora peggiore perché dovrei considerare il doppio delle emissioni per il secondario che sono maggiori rispetto alle emissioni del primario e non è detto che io riesca a ridurre la materia prima perché questa sovrapproduzione necessita comunque di fibre che avvengono da prodotti primari quindi all'interno dell'economia circolare c'è questo concetto che purtroppo è abbastanza ideale secondo cui un prodotto secondario sia in grado di prevenire la produzione di un prodotto primario quindi ci sia questo rapporto uno a uno tuttavia a causa dell'effetto rebound questo non avviene per due ragioni uno è la bassa sostituibilità che in alcuni casi esiste tra prodotti primari e secondari perché possono avere delle funzionalità o delle caratteristiche leggermente diverse o soddisfare dei bisogni dei clienti leggermente diversi vedremo alcuni esempi a breve ma anche per effetti di prezzo ipotizziamo che un prodotto secondario e primario abbiano le stesse caratteristiche ma il secondario costa di meno e quindi un prezzo minore mi porta a un aumento della domanda nel caso dell'elasticità della domanda rispetto al prezzo e c'è anche il problema ai consumatori di frontiera c'era chi non si poteva permettere un prodotto primario perché era troppo costoso invece un prodotto secondario costa di meno e quindi inizia a acquistarlo si crea una domanda che prima non c'era e questo aumenta ulteriormente la domanda e quindi la produzione vorrei portarvi qualche numero adesso nel 2018 c'è un articolo scientifico pubblicato a Marco Pepivanco nel mercato statunitense dei cellulari dove venivano mostrati i cellulari originali nuovi con prodotti vergini con quelli ricondizionati hanno verificato che da un terzo alla totalità del risparmio di emissioni derivanti al riutilizzo degli smartphone ricondizionati potrebbe andar perso proprio a causa del rebound ho deciso quindi di sporcarmi io stesso le mani con un articolo che ho pubblicato nel 2022 con un caso di studio del marmo di Carrara in un'azienda che realizza le lastre che vedete a sinistra con marmo statuario il calacatta quelle più costosi e utilizza gli scarti di produzione e il marmo aggiunto a fine ciclovita per realizzare delle lastre o altri prodotti listellari come dei grandi mosaici e realizza anche delle sedie e dei tavoli come quelle che vedete sulla destra ebbene ho visto che su base annua quindi a livello microeconomico e singola azienda è il rebound del 113.2% questo vuol dire che il prodotto secondario che è meno inquinante del primario non solo non riesce a compensare le emissioni che dovrebbe compensare ma causa un aumento dell'impatto di emissioni al 13.2% perché due prodotti non sono sostituibili perché il prodotto secondario ha creato una nicchia di mercato e una domanda che prima non era presente questo ha fatto sì che l'effetto rebound nell'economia circolare sia diventato in tempi imposto recenti un argomento di frontiera anche per la ricerca scientifica faccio parte inoltre di un progetto e ne sono anche proponente di economia circolare nell'ambito delle costruzioni per i sei materiali che ho indicato in basso questo progetto include valutazioni di rebound dell'economia circolare che sono molto apprezzate dalla commissione europea che ha giudicato il progetto quindi questo aspetto comincia a essere noto anche nelle istituzioni europee vorrei portare quindi alcune considerazioni su questo effetto l'effetto rebound può ridurre e potenzialmente annullare i benefici ambientali ottenibili all'economia circolare in alcuni casi non sempre inoltre può limitare o impedire il disaccoppiamento tra produzione e estrazione in materie primevergine ipotizziamo che io ora bevo una birra in una lattina e questa lattina venga riciclata io riciclo un chilo di lattine nessuno telefonerà al sito minerario di estrazione la bauxite per dire di estrarre un chilo in meno di bauxite quindi purtroppo non c'è questo effetto lineare inoltre a caso del rebound quello che è sostenibile a livello micro cioè trovare un impianto che effettivamente è eccellente in termini di prestazioni ambientali purtroppo può rendere ciò non sostenibile a livello di filiera o di settore perché le emissioni a livello di filiera purtroppo a causa del rebound potrebbero non essere quelli derivanti alla semplice somma algebrica delle emissioni che derivano dei singoli nodi e ignorare il rebound quindi vuol dire sottovalutare gli sforzi ambientali per restituire un'economia circolare non solo economici il rebound però non è causato da un singolo attore non sarà mai colpa di una singola azienda ma è causato dall'ingenerarsi di certi meccanismi tra domanda e offerta lato produzione e lato consumo inoltre non in tutti i settori e non tutti i beni sono soggetti al rebound in ugual misura avevo avuto modo di confrontarmi brevemente col presidente Piunti in tema agli oli e ho avuto modo di pensare un po' per esempio al settore agli oli rigenerati quello è un settore dove secondo me anche se servirebbe in un studio specifico l'effetto rebound può essere veramente basso perché l'olio rigenerato che io sappia ha delle caratteristiche tecniche che sono quasi equivalenti a quelle di un olio vergine in certi casi può essere persino superiore quindi in questo caso esiste una forte sostituibilità tra il prodotto primario e secondario purtroppo non è lo stesso per tutti i prodotti penso alla carta carta vergine e carta riciclata non sono sostituibili allo stesso modo perché hanno caratteristiche meccaniche diverse perché hanno resistenza all'umidità diversa perché non possono essere utilizzate ugualmente in tutti i casi per esempio la carta riciclata non può entrare in contatto con gli alimenti che siano non secchi per quello quando ordinate una pizza a domicilio c'è sempre uno strato di carta bianca sopra l'ondulato penso anche ai cellulari chi si sveglia alle 4 del mattino per fare la fila per l'ultimo iPhone a 1.400 euro non sarà disposto acquistare un cellulare ricondizionato perché non acquista le funzioni di un cellulare acquista i valori dietro all'iPhone quindi il fatto che io produca un'unità di cellulare ricondizionato non vuol dire che io stia prevenendo la produzione di un cellulare nuovo vorrei quindi provare a concludere l'economia circolare per me è fondamentale al punto che non è una freccia al nostro arco ma è letteralmente il nostro arco credo sia veramente la nostra arma per la neutralità climatica auspicabilmente si spera di raggiungerla ma bisogna tenere conto del fatto che potrebbe non essere sostenibile al punto di vista ambientale se non la mettiamo in condizione di diminuire l'emissione e l'estrazione di materie prime sicuramente valutazioni qualitative e quantitative e rebound possono far sì che l'economia circolare sia una fonte di profittabilità e sviluppo davvero ecosostenibili concludo con questa provocazione durante la metà degli anni 90 seguivo molto l'NBA lo faccio ancora soprattutto a Chicago Bulls questo è Dennis Rodman uno dei maggiori rimbalzisti della storia dell'NBA e il rimbalzo cioè il rebound è fondamentale in una partita perché spezza un'azione in attacco o mi permette di difendere meglio c'era una frase che diceva che controlla il rimbalzo controlla la partita secondo me questo può valere anche nell'ambito dell'economia circolare grazie a tutti grazie grazie per Luigi Dervino ti chiedo però subito visto che non c'è spazio dopo per le domande chiedo subito una cosa velocissimo che ruolo avrà quindi da un lato la cultura quindi la formazione dei cittadini proprio nel control del rebound quindi per vincere il gioco e dall'altro invece uno spostamento della fiscalità dal lavoro all'intensità materica dei prodotti avevo avevo avuto modo di chiacchierarne proprio prima dell'inizio del convegno secondo me le policy sono fondamentali nella possibilità di gestire il rebound tuttavia non sono soltanto l'unico strumento è necessario agire su più fronti a livello microeconomico a livello mezzo di filiera e a livello di policy making ma anche lato consumatori altrimenti si creerebbero degli ottimi locali cioè dei casi in cui in certi settori riuscirei effettivamente a ridurre il rebound a discapito di altri settori ad esso collegati per avere invece un ottimo globale che è quello che ci interessa per la neutralità climatica serve un approccio listico tanto all'analisi di questo problema quanto alla risoluzione quindi io direi sì policy sulla fiscalità ma non solo policy sulla fiscalità e dal punto di vista culturale quanto è importante la scelta di educare noi siamo ancora dipendenti dalla moda dai valori di consumo classici novecenteschi che stanno prendendo un po' terreno però non sono ancora dire maggioritari sì diciamo che sicuramente il comportamento dei consumatori è una forte causa di questo effetto rebound ma è una concausa non l'unica quindi questa forma di educazione culturale per me risulta essere fondamentale e purtroppo secondo me siamo un po' carenti su questo ci concentriamo molto sulla produzione a volte un po' meno proprio sulla comunicazione di quanto sta avvenendo e di quanto potrebbe avvenire davvero grazie la giornalista continuerei a farti domande ma mi devo controllare se no andiamo ben oltre i tempi tra l'altro il prossimo intervento Bruno Cova del centro studio internazionale tocca un tema che mi interessa tantissimo tant'è che abbiamo dedicato ai critical materials l'ultimo numero della rivista per cercare di capire quello che è un tema chiave proprio di questo periodo che va a toccare uno dei settori che più di tutti sta vedendo un incredibile aumento quello della digitalizzazione e quello delle tecnologie rinnovabili che sta aumentando esponenzialmente in qualsiasi settore in qualsiasi angolo del mondo in qualsiasi contesto quindi qual è lo stato dei materiali critici nelle tecnologie verdi e soprattutto nelle batterie grazie per la introduzione dopo queste note di attenzione anche un po' di preoccupazione sull'economia circolare e effetti carbonici che focalizziamo sulla parte tecnologie verdi che si basano su tutta una serie dei materiali come detto che stanno diventando critici ecco quindi che entrano più nel vivo del riciclo riciclo anticipo un po' di messaggi visto che il tempo è tiranno di materiali del ventunesimo secolo allora punto di partenza si è detto subito all'inizio stiamo nella fase di transizione energetica quel punto di partenza è questo i numeri li conoscete non entro nel dettaglio il punto di partenza purtroppo è ancora molto lontano dal punto di arrivo vedete numeri abbastanza impressionanti di import di risorse fossili a livello europeo e italiano che è una vulnerabilità buone notizie se ci spostiamo verso l'economia verde dell'energia produrremo energia sostanzialmente a decarbonizzazione in Europa lasciando perdere l'idrico che ormai è completamente sfruttato e si baserà su vento e sole che non dobbiamo importare quindi la vulnerabilità che abbiamo visto soprattutto l'anno scorso in Europa legata al massiccio import di risorse fossili in caso del gas ma anche del petrolio non ci sarà a condizione di una infrastrutturazione dei sistemi elettrici in particolare elettrici diciamo europei per convogliare queste energie verdi da dove si producono a dove si consumano in particolare il vento e ovviamente ci sono aree molto ventose dove non c'è carico vedete numeri caso dell'Italia adesso questo è il piano di sviluppo di Terna proprio la settimana prossima verrà pubblicato il piano di sviluppo del 2023 che quasi sicuramente sarà ulteriormente in rialzo bene peccato che per sfruttare l'energia vento sole in generale l'energia verde servono delle tecnologie che non sono quelle del ventesimo secolo tecnologie che richiedono tutta una serie di materiali che ahimè i raw material i materiali grezzi in questo momento in Europa aveva 3% materiali estrati e tutto il resto viene importato ma non serve solo estrarli questi materiali quando c'è la roccia estratta dalla miniera va processata e anche qui valori molto bassi in Europa vanno poi assemblati creati componenti da assemblati quindi in questo momento già e siamo all'inizio di questa corsa verso la decarbonizzazione l'Europa già si trova in uno Stato che sta importando materiali da fuori Europa quindi stiamo assistendo a un geopolitical shift stavolta basato non sulle risorse primarie che ci servono ma sulle tecnologie che servono per trasformare le risorse primarie verdi in Europa in energia o per sfruttare nei trasporti si crea quindi una criticità nella supply chain primo di questi materiali vedete dei numeri non sono solo le terre rare si pensa sempre le terre rare alla Cina quasi 100% sono importate magnesio niobio borati tutti dalla Turchia quindi hanno sono materiali che spesso arrivano da un singolo paesi fosfati non ho messo fosfati marocco e sono utilizzati in tutte le tecnologie verdi io qui ho messo tecnologie verdi legate all'energia ai trasporti fuel cell batterie eccetera tenete conto che oltre a questo vi è la competizione delle nostre tecnologie mi sono focalizzato sull'energia e i trasporti verdi ma con altri settori settore medico pensiamo il gadolinio terra rara probabilità paramagnetica per l'attacca quelle risonanze e la difesa la difesa fa ampio uso di questi materiali che vanno in competizione con le nostre tecnologie verdi quindi i materiali i numeri forse li avete già visti insomma erano 14 materiali identificati critici nel 2011 sono dei dati 30 dovrebbe essere ogni 3 anni quindi quest'anno pubblicata la nuova edizione dei materiali critici monitorati dalla commissione ma ovviamente la situazione il trend non è ancora non si vede l'inversione di questo trend le vulnerabilità qui già le vedete un esempio tratto da 10 anni fa quando la Cina per una questione politica territoriale con il Giappone ha ristretto l'export di terre rare impennata dei prezzi ho preso i 3 come Disprosio che è rarissimo l'Europio serve per i colori il terbio serve anche per i laser impennata di prezzi poi volutamente la Cina li ha fatti abbassare questi prezzi per evitare che qualcun altro li processasse e andasse in competizione con la Cina e l'Europa è un segno di vulnerabilità ecco perché il riciclo di questi materiali è più che importante essenziale l'altro problema è che di questi materiali spesso ce n'è poco il litio è abbondante anche se concentrato in pochi paesi il cobalto invece che purtroppo è indispensabile soprattutto per le batterie a ioni di litio su cui poi farò un focus e il cobalto invece non è tanto disponibile a livello terrestre quindi si crea anche un problema non solo di supply chain ma di disponibilità di materiale non possiamo come si è detto Piunti l'ha detto bene siamo in un'astronave non possiamo pensare di restare cobalto all'infinito che poi si esoglifiche non ce n'è più la US Geological Survey dice ma a noi stimiamo 7 milioni tonnellate di cobalto disponibili commercialmente sul pianeta Terra poi sotto l'antarbit ma chissà ma vedete qui le previsioni dell'Unione Europea come è previsto un aumento vertiginoso litio ma soprattutto di cobalto per le tecnologie veri per le batterie e il cobalto è proprio uno di quei materiali che va in competizione con tanti altri settori dell'acciaio ma banalmente anche le ceramiche il cobalto è il famoso blu cobalto storicamente stato usato per quello e la percentuale si sta sbilanciando a favore delle batterie però effettivamente vi è una richiesta di materiali che non può crescere all'infinito seguendo il percorso di decarbonizzazione quindi soluzioni il riciclo che abbiamo messo per prima ma l'avevo preparato ancora prima di questo evento effettivamente è il pilastro principale vi sono altre componenti come sempre quando c'è un problema una vulnerabilità non c'è solo una soluzione la sostituzione cioè per produrre il campo magnetico che serve nelle paleoliche non c'è solo neodimio samario poi legato col cobalto si può pensare a soluzioni caso della Vestas con rotore a gabbia che consente di evitare questi materiali che hanno alte proprietà magnetiche neodimio samario la Mercedes sta cercando adottare batterie con meno cobalto peccato che poi c'è più nickel tra l'altro di classe A è molto inquinante produrre questi materiali estrarli adesso anche qui la tecnologia sta evolvendo le cito perché poi ci focalizzeremo sul riciclo brevemente il litio si può estrarre abbiamo visto si sta vedendo anche dal geotermico il geotermico che c'è nella valle del Reno e ce n'è tanto in Italia con il geotermico si produce elettricità e prima di reiniettare il vapore nella sottoterra di nuovo si filtra il vapore e si estrae del litio litio che lo chiamo verde perché di fatto non ha emissioni di CO2 di fatto non richiede acqua perché per processare i materiali di litio grezzo perché non è un sacco di acqua che poi va purificata eccetera è un esempio virtuoso di come può evolvere la tecnologia primaria e poi anche non neghiamo insomma una certa indipendenza energetica nel termine di materiali primario si può e si sta cercando di introdurre nel discorso delle miniere in Europa fino al XVIII secolo lo stato sovato del Piemonte era un grande esportatore di cobalt nei stati germanici lo estraeva in una valle remota del Torinese e cerco parte sotto le Alpi tra l'altro è stato da poco aperto un enorme giacimento in nord Europa in Svezia esatto in Svezia che è delle terre rare allora come sempre da un estremo all'arco dal nulla le miniere in Europa sono state negli ultimi decenni altrimenti casi tutte chiuse ma non perché non c'era più materiale perché conveniva andare a prendere l'uranio in Niger e non devastare le Alpi che sotto le Alpi c'è anche dell'uranio però una situazione equilibrata va considerata con tutti i componenti il riciclo effettivamente è quello forse il pilastro chiave breve focus prima di concludere sulle batterie le batterie gli ioni di litio sono praticamente è la tecnologia su cui si base dai telefonini però i telefonini le batterie sono poche decine di grammi centinaia di grammi massimo le batterie delle auto sono quintalate per ogni auto e batterie stazionarie per i sistemi elettrici batterie non di lì si fa presto a dire ioni di litio litio ce n'è anche tanto ma il catodo come vedete contiene un sacco di materiali tra cui quelli critici proprio e purtroppo sono tante tecnologie diverse qui un sottinsieme le più comuni quindi il riciclo di queste batterie che arriveranno massivamente a fine vita tra qualche anno perché le auto elettriche adesso non c'è ancora una diffusione così massiva la zoe di circa dieci anni fa ma ce n'erano ben poche di zoe in circolazione quando cominciano ad essere tante centinaia di migliaia e poi milioni di veicoli che arrivano a fine vita il discorso delle batterie il riciclo è una nuova filiera che va avviata e pensata da adesso se no poi sarà tardi salto il ciclo di vita che penso voi conoscete di una batteria si parla della seconda vita una volta che la batteria scenda all'ottanta per cento di rendimento diciamo di durata nelle automobili si può riutilizzare e reimpaccare come batterie stazionarie nelle stazioni elettriche per compensare i flussi e equilibrare il sistema a fronte di produzione variabili rinnovabili da vento e da sole ma arriveranno anche quelle a fine vita quindi va pensato a quello che ho indicato come verde il riciclo diretto si rigenera il catodo oppure la piro metallurgia idrometallurgia sono tecniche che esistono sono applicate perché già i telefonini a fine vita arrivano le batterie spesso per riciclare batterie dei telefonini va fatto un salto a livello di scala non centinaia di tonnellate ma centinaia di migliaia di tonnellate da riciclare nei prossimi anni le cose si possono fare se nell'economia del ventesimo secolo quindi per esempio del tubsteno si ricicla in grande quantità per non parlare poi degli acciai dell'alluminio eccetera le tecnologie verdi che sono nuove in questo momento devono ancora vedere questa filiera avviata non entro nei dettagli è complicato riciclare questi materiali nelle tecnologie verdi per tanti motivi qui ho fatto l'esempio delle batterie ovviamente la batteria non è che si ricicla si mette si fonde si estrae no va tutto processato tutta una parte di attivazione va disassemblata la batteria è fatta da tanti componenti è uno dei componenti semplici poi i rottori con il neodimio è ancora più complicato va fatto tutto un pretrattamento termico meccanico chimico per togliere certi componenti organici da altri e finalmente con il cuore della batteria catodo in particolare si procede a queste tecnologie di riciclo ora sono tecnologie che hanno dei vantaggi e degli svantaggi sicuramente uno dei problemi è la variabilità della chimica che ci sta da una batteria all'altra presenza di impurità un aspetto un po' critico è che siccome questa è una tecnologia che evolvono nel tempo quando io le riciclo non è detto che la batteria nuova sia fatta come 10 anni fa quindi sono tecnologie che hanno vantaggi svantaggi non ancora del tutto forse mature per un'economia di grande scale quindi c'è una parte di ricerca sviluppo importante qui vedete con i colori un po' non c'è una tecnologia che ha tutto verde quindi soluzioni concludo beh anche qui il discorso l'abellazione di queste tecnologie ho fatto legge dei telefonini ma sono tutte così hanno tantissimi componenti dentro spesso non è chiaro bene cosa contengono sono spesso disegnati in maniera tale che si fa fatica a disassemblarli quindi pensare anche a un ridisegno che rende facilmente disassemblarli ricerca e sviluppo nella tecnologia di queste nuove filiere di processamento di riciclo perché adesso spesso sono molto energy intensive pensiamo a pirolisi e emettono producono emissioni c'è un political drive stato citato positivo e concluderei ecco questa nota positiva c'è molto da fare per avviare la filia delle ciclo tecnologie verdi ma il fatto che ne parliamo e i giornali media ne parlano sempre di più significa che sta crescendo la consapevolezza che c'è un potenziale problema ed è la consapevolezza il primo mattone per poi risolvere il problema in cui questo ho messo qualche articolo di giornale ma ormai tutti i giorni si parla di questo ed è positivo grazie grazie a Bruno Cova dentro studio internazionale tantissimi anche qua i temi emersi ci sarà discutere sicuramente il passaporto dei materiali e soprattutto mi hai fatto un assist per il prossimo speaker sul tema del design di come effettivamente noi immaginiamo i prodotti li disegniamo per essere poi prodotti per essere poi realizzati quindi il tema di renderli più facilmente smontabili e più facilmente riparabili in molti casi in alcuni casi semplicemente sostituendo le parti con i nuovi elementi che desideriamo un tema centrale che tra l'altro sta creando non pochi casini in Europa perché la direttiva Eco Design in questo momento e soprattutto al momento solo sulla riparabilità dei grandi bianchi quindi frigoriferi lavatrici ma che si sta espandendo anche altri settori è estremamente complicato come tema Gianluca Grigati docente di architettura e design del Politecnico di Torino tra l'altro luogo dove si fa pensiero sistemico design sistemico probabilmente allievo di Bistagnino grande pensatore dell'economia circolare nel design ci parlerà proprio del tema dell'eco design prego buongiorno a tutti sì io vengo dal Politecnico di Torino ma non ho una formazione tecnica sono un archeologo sono uno storico mi occupo quindi di storia del pensiero sistemico da umanista e le mie più che delle suggestioni spero che siano delle riflessioni che ha già lanciato il dottor Piunti inizialmente su focalizzando su determinati aspetti si diceva prima economia circolare e transizione energetica devono essere guardati quindi devono essere guardati insieme rappresentano appunto due grandezze due modalità due oggetti tra virgolette tornando al tema del design che devono essere visti insieme quindi in maniera sistemica lavorerò molto su keywords per cui appunto perdonatemi se rimarrà sempre questo uno dei miei let motive e l'altro aspetto è il design sistemico appunto al Politecnico abbiamo formalizzato questa metodologia il professor Bistagnino e proprio con la figura di Carlo Petrini ha lavorato tantissimo su questo tipo di metodologia il fatto di avvicinarsi da storico a questo tipo di situazione mi ha resa molto interessante per me allora ho sbagliato questo ok partiamo da un punto siamo nel 2014 sono passati 30 anni dalla morte di Aurelio Peccei il nostro la nostra Master of Science la nostra laurea specialistica la nostra laurea magistrale in design sistemico viene dedicata ad una figura di questo tipo che cosa succede perché si decide di spostare l'attenzione lì perché il design non si occupa soltanto di cose da questo punto di vista non si occupa soltanto di prodotti tra due mesi un mese e mezzo ci sarà il Salone del Mobile l'evento per eccellenza del design italiano ma il design non fa soltanto cose io per esempio da storico del design mi occupo di design per la valorizzazione del patrimonio culturale perché la collezione storica del compasso d'oro che è il nuovo museo del design che si trova a Milano è sostanzialmente un bene culturale al pari del Colosseo e quindi bisogna trovare tutta una serie di strategie sostenibili e anche legate al fundraising per valorizzarlo questo tipo di approccio è stato quello che ci ha portato appunto alla formalizzazione di questa laurea che ha lasciato o ha portato su nuove caratteristiche l'ecodesign mettendolo qui appunto nel contesto del design sistemico la società italiana del design a due anni prima del nostro percorso è stata istituita e ha focalizzato l'attenzione proprio sul design ovvero sul modo un modo specifico e non generico ma proprio specifico di intervenire sul mondo del progetto di intervenire nel mondo attraverso il progetto e la caratteristica fondamentale è che ha focalizzato l'attenzione sul contesto è lì all'interno di quest'ultimo che deve essere codificata questo tipo di azione e si parlava prima appunto di Bistagnino quindi questo è il testo forse il testo più rappresentativo scritto con la prefazione di Callim Petrini sull'appunto design sistemico come studio dei processi al fine di eliminare gli scarti di produzione e trasformare gli input o meglio i vecchi output in nuovi input ma il senso che noi vorremmo sul quale lavoriamo è un senso ulteriore e vi focalizzo l'attenzione soprattutto sul secondo di questi esempi cioè l'aspetto del design sistemico se da una parte avete un procedimento molto lineare dall'altra parte focalizziamo già l'attenzione sulle caratteristiche fondamentali del design sistemico e quindi sugli oggetti del design il progetto della relazione siamo nel tema dell'in between cioè quello spazio che si trova tra gli elementi che caratterizzano appunto il modello sistemico le relazioni e il contesto è questo che diventa il nuovo territorio del design oggi e che punta appunto a questo zero emissioni questo ci ha fatto subito ragionare ma forse perché sicuramente l'avete fatto anche voi noi l'abbiamo l'abbiamo fatto come primo bando abbiamo partecipato due anni fa un anno e mezzo fa al primo ciclo del NEB New European Bauhaus che è la grande politica europea Ursula von der Leyen il 15 ottobre del 2020 quindi in pieno secondo momento pandemico lancia questa nuova politica il modello è il Bauhaus e soprattutto è come sottolinea lei è necessario appunto se l'Europa nel 2050 vuole diventare quel continente climatico a impatto zero è necessario appunto sostituire il modello economico e spostare l'attenzione sull'economia circolare ora questo cambiamento sistemico questo che lei chiama nuovo Bauhaus europeo fa veramente riferimento appunto al Bauhaus del 1919 il Bauhaus di Gropius quello che abbiamo sia nell'ambito della storia dell'arte studiato tutti da storico secondo me il processo questo è una rappresentazione appunto della del Bauhaus o meglio della modalità traverso la quale la commissione europea in particolare la commissione von der Leyen ha focalizzato l'attenzione si è partita dall'idea storica del Bauhaus il nuovo Green Deal per arrivare appunto all'Europia io penso che sia sbagliato cioè inefficace la scelta della strategia nel senso che non è tanto il Bauhaus forse il modello al quale l'Europa oggi dovrebbe guardare ma è quello successivo la scuola di Ulm la von der Leyen chiudeva questo suo articolo con la parola sostenibilità inclusività ed estetica che sono ovviamente le tre caratteristiche fondamentali un progetto deve essere bello sostenibile e fatto insieme ok il problema però è un altro l'aspetto interessante è che queste tipo di caratteristiche non erano tanto legate appunto al Bauhaus de Sao 1922 ma a Ulm siamo nel 1955 quindi è esattamente quello che avviene dopo figure come quelle di Max Bill aziende come quelle della Brown e intellettuali come Thomas Maldonado la speranza progettuale quindi qualcosa che ha veramente un andamento un viatico lungo a Ulm non si parla di progettazione ma si parla di edilizia a Ulm si vuole immaginare qualcosa di completamente nuovo ed è una nuova Germania quella non è più la Germania della fine della prima guerra mondiale è una Germania che sta cambiando completamente che diventa un luogo nel quale attirare persone che arrivano da altri territori si parlava prima di comportamenti nel contesto del design esiste questa disciplina che si chiama design for behavioral change si va a lavorare sul modo in cui le persone si comportano col Politecnico abbiamo provato proprio mettendo insieme la nostra idea o comunque una valenza legata più alla scuola di Ulm con un partner privato l'abbiamo applicato provato appunto a far precipitare in un contesto molto preciso che è quello di il progetto Uptown Uptown scusate che si trova nell'area milanese Cascina Merlata dove abbiamo sostanzialmente provato a trasformare quello che si diceva prima siamo all'interno di questa astronave bene all'interno di questa astronave noi dobbiamo comportarci come dei consapevoli assistenti di volo il cabin crew che si prende cura di noi nel momento in cui decidiamo di intraprendere un viaggio bene la stessa identica cosa noi abbiamo deciso di farla nei confronti di questo territorio che è appunto rappresentato da questa area dove un partner privato sta sostanzialmente progettando una parte della zona milanese per 15.000 abitanti e quindi un quartiere sostanzialmente milanese e ha chiesto a noi di aiutarlo a progettare una sorta di manuale una sorta di toolkit per capire in che modo rendere e portare le persone ad avvicinarsi in maniera più concreta legata al loro contesto al loro domicilio alla loro edilizia come diceva appunto la scuola di Ulm al tema della sostenibilità quindi nel contesto del design sistemico abbiamo provato il progetto ancora in corso sta lavorando su una serie di contesti completamente diversi dalla sostenibilità dell'acqua la modalità dei materiali eccetera eccetera e l'aspetto interessante è che il partner privato ha trovato molto stimolante questo tipo di approccio e lo sta sperimentando continuamente per cui siamo molto molto contenti ecco da storico mi trovo in un periodo molto strano perché gli storici sembra che come possiamo dire cerchino di guardare soltanto il passato in questo caso si guarda la contemporaneità quel tipo di approccio appunto dato dalla commissione potrebbe essere superato considerando appunto come dicevamo prima quell'altro tipo di modalità grazie 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 al professor Grigatti un tema molto interessante anche perché spesso abbiamo tecnologie abbiamo un sacco di know-how tecnico ma poi senza la parte comportamentale senza la parte di design dei processi anche sociali e culturali per utilizzare queste tecnologie poi i risultati non si ottengono quindi è assolutamente un tema fondamentale soprattutto oggi che si fa va a fare efficientamento si vanno a fare processi di economia circolare anche nei luoghi che viviamo e che abitiamo come il progetto di Uptam quindi abbiamo visto tre interventi tutti molto diversi ma estremamente collegati sistemici indubbiamente concludiamo col quarto intervento di Lucia Muto responsabile dell'area strumenti economici del centro nazionale dei rifiuti dell'economia circolare dell'ISPRA per vedere un po' questa Europa che abbiamo visto fare la trade union su tutto sia dai processi culturali con il new european bar house ma soprattutto sull'economia circolare sui critical materials con critical materials act col CEAP con l'economia action plan tutti i soldi anche che ha messo estremamente significativi sul tema dell'innovazione tecnologica per le energie rinnovabili ma anche per l'economia circolare dal next generation EU al piano 21-27 del budget europeo per non parlare poi dei fondi della ricerca Life Horizon che insomma per chi si occupa ha visto veramente un'Europa estremamente attiva in questo settennato e che si spera riuscirà anche a replicare col prossimo Parlamento e la prossima commissione Lucia Muto prego grazie grazie mille dunque mi occupo di rifiuti qui mi sento un po' come dire proprio che guardiamo gli aspetti pratici di quello che effettivamente poi accade nella realtà i rifiuti i rifiuti sono una risorsa per l'economia circolare l'abbiamo detto ma noi noi in Italia l'avamo già capito l'avamo già capito e l'abbiamo capito con il decreto Ronchi addirittura tant'è che il decreto Ronchi sono state fissate degli obiettivi per la raccolta differenziata perché la raccolta differenziata rappresenta per noi e anche adesso per l'Europa attenzione e anche adesso per l'Europa uno strumento per giungere poi a quelli che sono gli obiettivi di riciclaggio fissati in ambito europeo perché noi l'abbiamo capito prima l'abbiamo siamo stati bravi questa volta devo dire l'abbiamo capito prima perché noi abbiamo proprio questa necessità di di recuperare delle materie prime e seconde dai rifiuti siamo poveri di materie prime quelle che le miniere che avevamo le abbiamo tutte chiuse e quindi noi abbiamo visto sempre i rifiuti come una risorsa adesso quindi questo l'abbiamo visto anche quando c'era quel famoso modello lineare che si parte da un prodotto e si giunge è un rifiuto adesso con questo nuovo percorso dell'economia circolare iniziato anche in ambito europeo chiudiamo quello che è il cerchio lo chiudiamo ma noi l'avevamo chiuso un po' prima però noi l'abbiamo chiuso attraverso il 5 febbraio del 98 dove comunque presentava delle aveva dei problemi in merito alle quantità eccetera eccetera adesso con questa nuova visione l'Europa apre apre e quindi ci dà anche degli strumenti normativi finalizzati e che noi possiamo utilizzare affinché un rifiuto possa cessare di essere rifiuto e ritornare quindi nel ciclo industriale un ciclo industriale due sono gli articoli che abbiamo ricepito molto importanti per l'economia circolare dalla direttiva europea uno in modo particolare è il 184 ter che è proprio l'articolo che è del 152 che va a definire che è la disciplina per la cessazione della qualità di rifiuto attraverso un processo di recupero per esempio e che nel rispetto individuo delle condizioni quindi nel rispetto di quattro condizioni nel rispetto di criteri individuati in ambito europeo in ambito di paesi membri possano rientrare nel è stato fatto un passaggio avanti il passaggio avanti è consistito nell'autorizzazione caso per caso ovvero le autorità competenti cioè quelle a rilascio dell'autorizzazione sulla base di certe valutazioni anche individuate in ambito europeo ci consentono di quindi non attraverso dei DM non attraverso dei regolamenti attraverso delle autorizzazioni dei provvedimenti autorizzati di fare in modo che quel rifiuto sottoposto a un processo di recupo possa ritornare in quello che è il ciclo industriale altro articolo importante il 184 bis dove il rifiuto non cioè dove quel prodotto non diventa rifiuto ma diventa un sottoprodotto qui ci sono un po' diciamo questo articolo ancora non ha preso veramente i piedi perché il produttore di quel rifiuto si deve assumere delle responsabilità e deve asserire che quello non è un rifiuto quindi diciamo che la normativa abbiamo visto come la normativa europea abbia fatto dei passi avanti anche per dare la possibilità ai Paesi membri di essere un po' più liberi e di attraverso il caso per caso individuare anche quelli fatti specie che possono attraverso le autorizzazioni rientrare perché altrimenti c'è bisogno voi sapete i decreti endo-waste quindi c'è bisogno di un DM ministeriale un processo che è abbastanza molto più lungo perché è l'iter e pure burocratico che è lungo detto questo quindi questa è una piccola panoramica di quello che facciamo noi e di quello che io di quello di cui mi occupo i rifiuti quindi che cosa fa anche l'ISPRA l'ISPRA va attraverso fa il monitoraggio dei rifiuti prodotti dei rifiuti prodotti della loro gestione di quanti impianti ci sono a livello nazionale che possono trattare questi rifiuti e quindi usciamo due volte con due rifiuti con due rapporti il rapporto dei rifiuti speciali e il rapporto dei rifiuti urbani il rapporto dei rifiuti urbani che in questo per esempio tra l'altro ponti preziosissimi per tutti noi giornalisti sì meno male siamo contenti perché dietro quei rapporti c'è tanto tanto lavoro perché i dati vengono bonificati vengono analizzati dall'analisi dei dati poi vengono rappresentati delle situazioni detto questo però in questo momento in questo momento dove l'Italia ha redato un piano di ripresa piano nazionale di ripresa e di esigenza che ha visto legate a questo piano molto importante due riforme relative alla due riforme una è la strategia del nazionale dell'economia circolare e l'altro il piano generale per la gestione dei rifiuti questi dati sono stati fondamentali quindi sono stati diciamo molto importanti per andare a redigere questi piani che poi vengono redatti anche ai sensi di un articolo del 152 che è l'articolo 198 bis individuo dei contenuti tra cui bisogna dire quali sono i rifiuti prodotti in ambito nazionale qual è l'impiantistica come si muovono questi rifiuti i flussi dei rifiuti e così via però quindi ho fatto questa panoramica parliamo un pochettino di dati però arriviamo ai dati e arriviamo vorrei arrivare nel breve tempo a quelli che sono i comportamenti di cui si parlava prima allora in ambito due cose in ambito europeo in ambito il contesto europeo innanzitutto questi dati vi dico sono i dati del 2020 quindi sono rispetto ai dati i dati ISPRA ultimi che sono del 2021 sono un po' più indietro diciamo che i paesi europei i paesi dell'Unione hanno prodotto nel 2020 un quantitativo di 231,3 milioni di tonnellate rispetto al 2019 si è assistito a un aumento del 2,6% quest'amento però è chiaro che non è un aumento per tutti i paesi alcuni paesi per alcuni paesi si è visto un aumento per altri paesi si è visto un decremento nella media si è assistito a un 2,6% come sono trattati questi rifiuti in ambito europeo quanti ne sono trattati ne sono trattati 228 milioni di tonnellate rispetto quindi al 2019 sono stati trattati più 3,3% di rifiuti che corrispondono a 7,3 milioni di tonnellate rifiuti urbani o complessivamente? questi complessivamente perché noi facciamo il distingue invece di rifiuti urbani e rifiuti speciali naturalmente i rifiuti speciali sono circa 139 milioni di tonnellate vengono dal settore industriale e rifiuti urbani dal domestico e quindi questi sono per quanto riguarda l'Europa per quanto riguarda il riciclaggio si è visto che 9 paesi su 27 hanno avviato a di ciro di materia il 30% di rifiuti come è messa l'Italia al 2020 l'Italia ha avviato al recupero di materia il 30% di rifiuti il 26% al compostaggio e di gestione anaerobica nel complesso noi abbiamo avviato al riciclo 56,5% dei rifiuti prodotti in Italia abbiamo fatto meglio della Germania o no? vediamo vediamo la Germania il recupero di materia il riciclo di materia il 48% era giusto per sapere come finita la Germania 48 e 21% per compostaggio e riciclaggio quindi 21% no la Germania è meglio mannaggia va bene 4 a 3 a parte opposta sì sì quello sì perché parliamo di recupero di materie totone per quanto riguarda invece il riciclo complessivo quindi che riguarda il recupero di materia compostaggio e di gestione anaerobica questo ha riguardato 111 milioni di tonnellate 111 milioni di tonnellate ok parliamo invece del contesto nazionale quindi dati 2021 però rifiuti urbani rifiuti urbani la produzione si è attestata a 29,6% di milioni di tonnellate un incremento del 2,8% rispetto al 2020 la produzione pro capita si è attestata a 502 kg per abitante poi è chiaro che le macro aree le regioni questo è tutto diverso per quanto riguarda la raccolta differenziata raccolta differenziata che abbiamo detto che è un veicolo per noi può essere un veicolo vedremo può essere e qua il comportamento è anche molto importante può essere infatti ho detto può essere nel 2021 la raccolta differenziata è pari al 64% della produzione nazionale è cresciuta a un punto percentuale di un punto percentuale non vi dico a livello di frazioni merceologiche anche se la parte da leone la fa la frazione organica con ve lo dico questo il 39% va bene segua carta e cartone il 19,1% il vetro e così via gli altri flussi di rifiuti parliamo un attimo della gestione l'analisi dei dati del 2021 ha evidenziato questo lo sottolineerei che lo smaltimento di scarica interessa il 19% il 19% invece a recupero di materia abbiamo circa il 50% di rifiuti prodotti ora che cosa accade qua a livello di riciclaggio complessivo noi ci siamo attestati sul 48,1% con la nuova metodologia di calcolo l'anno precedente quindi nel 2020 è stato fatto un misto di metodologia e stavamo intorno però al 48,4% poca differenza che cosa si è visto però che a un aumento di raccolta differenziata del 64% di un punto percentuale noi siamo rimasti pressoché costante nel riciclaggio questo cosa vuol dire e questo vuol dire che questa raccolta differenziata è una raccolta differenziata non di qualità ovvero presenta delle frazioni estranee ed è una percentuale di frazioni estranee tali che creano delle problematiche rispetto al passaggio successivo e qui torniamo un attimo ai comportamenti chi è l'attore principale che effettua quella che è la raccolta differenziata siamo noi allora qui ci vogliono due cose anzi forse tre innanzitutto bisogna sensibilizzare i cittadini che una raccolta differenziata porta a un riciclaggio e porta a una difesa ambientale e anche a una difesa della salute umana perché le cose reagiono insieme ma se la raccolta differenziata aumenta e aumenta la qualità delle frazioni differenziate si hanno anche dei maggiori ricavi quindi che cosa come impattano i maggiori proventi della vendita di energia e di materia e del e qui c'entrano anche i consorsi perché come come impattano come di cioè la cittadinanza deve capire che se non basta quella quell'informazione che noi andiamo verso una tutela ambientale che andiamo abbiamo un elemento economico che può invogliare molto di più perché attraverso maggiori ricavi la cittadinanza può vedersi una diminuzione della Tari come te la vedi la diminuzione della Tari come la cittadinanza vede la diminuzione della Tari attraverso quello che Arera ha inserito nella sua deliberazione 443 che è il coefficiente di sharing che a seconda del valore che assume può pesare molto di più verso la cittadinanza e quindi la cittadinanza vede ridotta la tariffa altra cosa è per esempio la tariffazione puntuale sono due strumenti che possono invogliare il cittadino e quindi vede anche un ritorno economico legato ai propri comportamenti e devo dire anche al proprio impegno perché fare una raccolta differenziata di qualità è anche impegnativo che però se posso aggiungere vanno comunicati bene perché se io vedo vanno comunicati bene perché se io vedo la tariffa che devo pagare come io abito a Milano quindi la pago al comune di Milano c'è solo il prezzo non c'è una spiegazione di dove ho risparmiato quando perché per come quindi è molto importante magari lo faremo con l'autority magari lo faremo con l'autority però io ecco ecco i comportamenti come sono importanti è chiaro che accanto a questo però molto importante è è quello che fa il gestore del servizio perché il gestore del servizio deve anche rendere facile la vita della cittadinanza grazie grazie Lucia Muto abbiamo veramente fatto in giro a 360 gradi intorno a questa questione vi ringrazio appunto per le vostre presentazioni sono state estremamente interessanti su tematiche anche da conoscitore esperto alla materia ho imparato molte cose nuove vi ringrazio io adesso mi metto al podio perché abbiamo ben cinque speaker ora si ora si è acceso quindi invito sul palco di nuovo Riccardo Piunti presidente del Conou Domenico Rinaldini presidente del Ricrea il consorzio dell'acciaio Giovanni Scotti presidente del Coreve il consorzio del vetro Andrea Fluttero presidente di Erion del consorzio per apparecchiature elettroniche ed elettriche e Federico Dossena direttore generale di Ecopneus consorzio dei pneumatici fuori uso bene abbiamo parlato appunto di tutti gli aspetti dei legami tra l'economia circolare e l'energia cerchiamo di capire che cose singoli consorzi fanno che obiettivi hanno ma anche come il loro lavoro impatta su l'energia e quindi sulla decarbonizzazione tutti voi fate report di sostenibilità quindi conoscete gli impatti del vostro lavoro dal punto di vista sia energetico che di emissioni di gas R e quindi farei un primo giro intanto per una presentazione per chi non conosce i consorsi ma soprattutto per vedere questo tipo di date e di informazioni e poi cerchiamo di capire il legame del lavoro ai consorsi a quello del mondo dell'energia darei subito la parola Riccardo Piunti con la presentazione cercherò di essere brevissimo ma anche perché raccontare il consorzio uno potrebbe parlare qualche ora noi siamo il consorzio siamo i più vecchi questo va detto siamo i più vecchi e abbiamo cominciato quasi 40 anni fa 39 anni fa abbiamo cominciato con un lungo percorso perché all'inizio come dicevo prima bisognava raccogliere quindi si raccoglieva poco poi si è raccolto sempre di più oramai siamo arrivati a quello che noi chiamiamo il limite del raccoglibile nel senso che salvo qualche camorrista che si diverte a buttare qualche secchio d'olio in mezzo alla campagna effettivamente ormai nulla scappa alla rete dei nostri 60 imprese che vanno a raccogliere l'olio in tutta Italia non andiamo a raccogliere il numero a me piace dirlo perché fa di effetto in quasi 110 mila posti i mezzi della nostra filiera vanno in 110 mila posti n volte all'anno a recuperare l'olio ci sono piccoli meccanici che stanno in cima alla collina ci sono grandi imprese magari a una grossa acciaieria che sta in Puglia o sta in Lombardia questa è la nostra attività di raccolta dopodiché il consorzio che qui lo dico perché è uno dei pregi del modello consorzio il consorzio che non ha fin di lucro prende tutto questo olio raccolto che per la cronaca sono 180 190 mila tonnellate all'anno c'è una diciamo una figura che io faccio sempre pensate allo stadio olimpico tutto pieno d'olio ecco quelle sono 180 mila tonnellate di olio queste 180 mila tonnellate noi le portiamo nelle tre raffinerie che ci sono in Italia raffinerie o impianti di rigenerazione come vogliamo chiamarli le controlliamo selezioniamo la qualità dell'olio e ovviamente poi da ente fuori dal business e senza fine di lucro decidiamo che dell'olio è prioritariamente rigenerabile oppure qualche volta l'1,5% 2% dei casi non è rigenerabile rigeneriamo queste 180 190 mila tonnellate di olio ci ricaviamo circa 120 mila tonnellate di nuove basi lubrificanti ci ricaviamo bitumi gasoli e poi qualcosa ovviamente si perde nel flusso perché sono dell'acqua ci sono qualche idrocarburo leggero che viene utilizzato nello stesso processo di rigenerazione quindi noi facciamo un ciclo completo di circolarità ovviamente non siamo partiti così ci siamo arrivati fino a vent'anni fa bruciavamo un quarto del nostro olio quindi il percorso per non bruciare l'olio è stato un percorso lungo perché la gestione della qualità è una delle cose fondamentali poi magari se faremo un secondo intervento parleremo di questo tema che secondo me è importante però è chiaro che all'inizio dell'olio che non era rigenerabile veniva bruciato adesso noi recuperiamo e rigeneriamo tutto quindi siamo la circolarità completa siamo un campione di economia circolare noi lo diciamo ma i colleghi che sono qui a fianco a me sono sicuramente altrettanto record man in Europa di tutto questo dal punto di vista poi economico cosa significa questo che noi non importiamo greggio non estraiamo greggio non importiamo greggio per fare questi stessi oli lubrificanti che noi che vengono rimessi nel mercato e assolverlo tranquillamente al loro compito n volte non c'è un limite l'olio è come i gatti c'ha 7, 8, 10, 1000 vite e quindi il ciclo continua perenne e sempre nel fare questo l'ultimo anno abbiamo fatto il conto risparmiamo oltre 80 milioni di euro che significa di importazione di petrolio che significa qualcosa in ambito energetico significa non dover affrontare l'estrazione il trasporto la raffinazione di tutto del greggio che serve a fare questo lubrificante significa anche meno emissioni perché evidentemente questo ciclo alternativo che parte dal rifiuto consuma meno CO2 produce meno inquinanti produce meno eutrofizzazione nelle acque consuma meno acqua e quindi c'è tutta una serie di effetti ambientali che noi poi andiamo a misurare nel nostro annuale rapporto di sostenibilità che se volete un po' la sintesi il momento in cui noi mettiamo sul tavolo quello che siamo riusciti a fare in ogni anno ecco adesso non sto illustrando quello però voglio dire che tutto questo è stato un lungo percorso e come dicevo prima quando parlavo di comportamenti è cominciato proprio con i comportamenti perché i comportamenti sono fondamentali e noi tuttora lavoriamo sui comportamenti tuttora lavoriamo per esempio con le scuole con i ragazzi perché l'economia circolare e i comportamenti si insegnano già dalle scuole e i ragazzi sono ricettivi devo dire vabbè poi questo è un altro progetto è un'altra storia però chiaramente questo filone dei comportamenti e dei costumi è una cosa fondamentale e importante che nessuno di noi che si occupa di queste cose può dimenticare perché l'economia circolare la lotta al cambiamento climatico la transizione energetica non si fanno da soli non siamo noi 5, 6, 10, 20 ma si fanno con tutte le persone con tutti i cittadini vabbè credo per ora possa bastare procedo la parola ai colleghi grazie grazie a Riccardo Piunti hai dato uno spunto uno spunto importante all'inizio quindi comunicazione educazione tutti i temi per qualità tutti i temi che avremo modo di discutere durante questa tavola rotonda Domenico Rialdini presidente di Ricrea acciaio materiale che necessita tanta energia per essere realizzato e quindi la sua raccolta e il suo riciclo sono assolutamente fondamentali in questo ciclo dell'energia dei materiali prego sì grazie buongiorno a tutti parliamo di acciaio quindi parliamo di diciamo sempre per inquadrare che cosa è l'imballaggio in acciaio di uso comune della forse dell'imballaggio più più italiano della scatola che contiene il pomodoro così come delle scatolette di tonno eccetera infatti di acciaio che è un materiale permanente cioè un materiale che si può riciclare all'infinito e nelle fasi di riciclo non perde mai le caratteristiche qualitative iniziali quindi questo vuol dire che è importante andarlo a recuperare perché per non perdere niente cioè per far sì che diciamo questo materiale così prezioso non venga abbandonato si parlava prima del decreto ronchi io credo che noi a ronchi dobbiamo molto cioè nel senso che quando nel lei parlava di 40 anni noi siamo un po' più giovani noi abbiamo solo 26 anni di età 25 anni fa nel 1997 se non sbaglio nasceva il decreto ronchi che è stata nasce da secondo me da un'idea da una intuizione molto geniale del legislatore che si basava fondamentalmente su tre principi importanti cioè il primo che affidava ai privati la gestione di un tema di interesse pubblico e questo nel 97 era una novità abbastanza importante infatti credo che all'inizio nessuno ci credeva sul successo del sistema l'altro elemento molto importante che definiva il punto di predievo al momento della prima cessione questo non è un elemento trascurabile perché ha determinato una facilità di controllo e una veramente una bassa evasione e delusione e l'altro punto importante che tutto questo era basato sulla collaborazione con i comuni con l'associazione dei comuni che ha consentito di partire con un sistema di raccolta differenziata noi oggi come consorzio acciaio ma è un dato comune a tutto il sistema lavoriamo con il 75% dei comuni d'Italia e diciamo copriamo una popolazione che è di circa 52 milioni cioè l'86% quindi un come dire un un quadro abbastanza abbastanza importante non so lei ha chiesto prima se la Germania ci batteva o meno nel campo degli imballaggi degli imballaggi nel campo di tutti gli imballaggi non lo diciamo noi lo dice un recente studio della Bocconi e del Wuppertal Institute siamo dietro a Lussemburgo cioè siamo i primi in Europa in Lussemburgo direi che è abbastanza facile organizzare un sistema di raccolta noi diciamo questo studio definisce il sistema italiano quindi il sistema CONAI il più efficace il più efficiente il più trasparente che non è banale perché avere dei dati in alcuni paesi europei è molto difficile da noi credo che sia abbastanza semplice ed è anche il meno costoso io vi do un riferimento che riguarda il nostro consorzio la cosiddetta boatta cioè il contenitore di pomodoro da 500 grammi il contributo che quest'anno si paga in Italia lo devo leggere perché è abbastanza complicato è 0,0220 euro in Germania 3,344 euro questo solo per dare un riferimento diciamo questo è un dato non nostro un dato che ci viene da uno studio recente che conferma questa bontà del sistema del sistema italiano sistema che ripeto nasce in applicazione di una direttiva europea che quando è nato stabiliva anche degli obiettivi che all'inizio non ci si credeva molto di essere in grado di raggiungere questi obiettivi che erano nel nostro caso il 50% di tasso di riciclo da raggiungere nel 2080 il 70% nel 2025 e l'80% nel 2030 tenete presente che noi il 50% l'abbiamo superato nel 2002 oggi che siamo nel 2023 siamo su tassi medi degli ultimi anni del 78% quindi siamo già al di là dell'obiettivo del 2025 siamo molto vicini all'obiettivo del 2080 che chiaramente si può raggiungere facilmente noi abbiamo un quadro di raccolta differenziata in Italia che non è molto omogeneo quindi in alcune regioni e non sono solo nel sud ci sono anche nel nord alcune aree dove se si va ad intensificare la raccolta differenziata e a farla bene diciamo l'obiettivo è facilmente raggiungito dal punto di vista ambientale uno studio del fondo di sviluppo sostenibile ci dice che nei 20 anni cioè dal 2000 al 2022 quello che cioè il lavoro che abbiamo fatto quindi di raccolta e di riciclo ci ha consentito di evitare l'emissione di 12 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti che sono circa per fare delle comparazioni che come dire danno più il senso del risparmio e sono le emissioni di 7 milioni di automobili con una percorrenza media di 10 mila chilometri sono state risparmiate è stata risparmiata energia per 50 mila gigawatt di energia primaria che è il consumo medio di 13 milioni di famiglie e sono state risparmiate 8 milioni di tonnellate di come dire di materiale primario che sempre per fare un paragone che dà un senso il peso totale di 800 torri quindi questo è un po' il quadro veloce della nostra attività di questi anni quindi in sostanza per così dare dei dati gli obiettivi sono stati raggiunti non abbiamo grosse perplessità o preoccupazioni per raggiungere l'obiettivo dell'80% per quanto riguarda l'aspetto ambientale diciamo questi sono i numeri si è accennato prima al problema della qualità che in effetti è molto importante cioè perché avendo una raccolta di qualità poi si hanno anche minori costi a valle noi come sistema CONAI già con i comuni d'Italia abbiamo un accordo che prevede corrispettivi in funzione delle pace di qualità quindi in effetti si sta già lavorando su questo per fare in modo che attraverso l'azione sia dei comuni ma anche con un'azione che dovremo probabilmente intensificare di comunicazione perché poi siamo noi cittadini a determinare la qualità di quello che andiamo a conferire ecco anche in questo diciamo è già un quadro su cui si sta lavorando si lavora si sono già contrattualmente definiti corrispettivi diversi che poi dovrebbero poi tramotarsi tradursi però già c'è cioè sostanzialmente già c'è un ultimo appunto lo vorrei fare sull'acciaio come materia prima sull'acciaio come materia prima perché negli ultimi anni è stato avviato in Italia un processo di riduzione dell'impatto ambientale secondo un dato di Federacciai le acceerie italiane nel corso di questi anni hanno ridotto i consumi energetici totali per tonnellate di acciaio prodotto del 36% rispetto al 95% quindi si è cominciato a lavorare su questi aspetti e dopodiché è chiaro che ci sono azioni importanti di ricerca e di progetti di investimento per utilizzare energie diverse si sta lavorando con l'idrogeno attualmente ci sono in Europa 12 progetti di decarbonizzazione in 9 paesi d'Europa e in altri in altri paesi compresi l'Italia ci sono progetti che però sono ancora non formalizzati in Italia c'è un problema della situazione dell'aceria nazionale che speriamo che si possa in qualche modo risolvere grazie grazie Domenico Rinaldini che ci ha anche fornito un altro spunto quindi anche vedere come i consorsi possono ulteriormente anche efficientarsi nel proprio nei consorsi ma tutti chi fa parte dei consorsi possono anche efficientarsi nei propri processi Giovanni Scotti presidente di Coreve il vetro magari non sempre lo si pensa ma anche anch'esso è un materiale che richiede molta energia sia per la fase di lavorazione che anche per la fase di riciclo quali sono i vostri dati e quanta CO2 a questo punto stiamo facendo un cumulativo abbiamo visto dati estremamente importanti dai primi due consorsi sono molto curioso anche io di vedere che obiettivi avete raggiunto qua in Italia prego grazie grazie anche noi come ricrea per l'acciaio siamo un consorzio di filiera del sistema conai quindi degli imballaggi direi che forse non abbiamo inventato moltissimo visto che torno al 300 dopo Cristo una nave affondata è stata trovata nei pressi di Aquileia tutta piena di pezzi di vetro e si pensava che si fossero frantumati il carico in realtà era del vetro a pezzi di riciclo che da dove allora si faceva vetro quindi in Egitto veniva portato tanto per cambiare dalle parti di Venezia dove invece si rifondeva e così dunque in realtà il vetro è un materiale energivoro per farlo bisogna miscelare assieme e fondere sabbie si dice insieme a soda e carbonato però una volta che l'hai fatto il vetro rimane pertanto lo si definisce come un materiale permanente una volta che è stato fabbricato il vetro così rimane pertanto il riciclo ovvero sia l'utilizzo di un contenitore di vetro già utilizzato comporta non più la costituzione di nuovo vetro ma semplicemente la fusione di un vetro già esistente questo vuol dire che partendo da materia prima seconda quindi da rottame di vetro recuperato si consuma grosso modo il 25% in meno di energia e si emette molto meno CO2 che è il risultato delle reazioni di fusione dei componenti basi sulla base di questo è evidente che la storia del recupero del vetro è storia che portava il re di Napoli nel 1820 a invitare la cittadinanza a non buttare non dissipare nell'ambiente il vetro ma a raccoglierlo perché poi ne sapevano i fatti e quindi il consorzio del vetro in Italia ha una storia più che ventennale e dei risultati che definirei particolarmente interessanti al punto che la nostra problematica oggi non è tanto cosa fare del rottame ma la non sufficienza del rottame non tutti sanno che l'Italia per il grande successo del food del made in Italy è il terzo produttore al mondo di bottiglie e vasi pertanto dopo la Cina e gli Stati Uniti gli italiani sono il terzo produttore al mondo il vino italiano l'olio italiano le conserve di pomodori tutto quello che si vede essere un prodotto di alta qualità conservato in vetro viaggia per il mondo e in Italia vengono fabbricate tutti gli anni un pochino più di 5 milioni di tonnellate di bottiglie e vasi soltanto meno della metà quindi 2 milioni e mezzo di tonnellate viene messo sul territorio italiano e pertanto noi siamo il consorzio che recupera questo attraverso gli accordi che abbiamo con i comuni e i gestori possiamo recuperare il possibile ma in un trend di sviluppo importante come quello che vi ho appena descritto per il food italiano in giro per il mondo siamo sempre in affanno per assicurare le nostre vetrerie sufficienti quantitativi di materia prima seconda che è poi il risultato del trattamento della raccolta del rottame che si fa attraverso il sistema dei comuni con cui abbiamo ottimi rapporti nel complesso generale noi recuperiamo qualche cosa come 2 milioni e 200 mila tonnellate di recuperiamo e avviamo recupero 2 milioni e 200 mila tonnellate di vetro sui 2 milioni e 800 mila immessi a consumo direi che se si vanno a fare i conti questo vuol dire che il 76,6% del vetro italiano è riciclato questo è un valore di per sé molto buono perché è superiore al livello target europeo per il 2030 noi siamo già a livelli superiori a questo target che è il 75% quindi noi siamo superiori al 75% fin dal 2019 ma non siamo contenti nel senso che nonostante tutto dobbiamo recuperare sempre di più per noi un chilo uno che non viene recuperato è già un problema per il nostro industria nazionale industria nazionale che devo dire ha importato l'anno scorso questo è un dato del 2022 270 mila tonnellate di materia prima seconda provenienti dall'estero per assicurare il fabbisogno un forno per produzione vetraria di vetro colorato quindi le bottiglie verdi dell'olio del vino può funzionare fino al 95% di materia prima seconda quindi se avessimo la disponibilità completa potremmo forse utilizzare più materia prima seconda e avere ulteriore beneficio ambientale però insomma questo è se evidentemente bravi siamo ma non sufficienti ma come puoi pensare che effettivamente puoi recuperare più beh questo lo si vede perché se si prende l'Italia che è lunga e stretta dalle parti del nord si raccolgono grossomodo 50 kg a testa per abitente e nel centro meridione si raccolgono 30-35 kg questo ci fa pensare che comunicando adeguatamente con la cittadinanza aiutando le istituzioni locali a una migliore raccolta differenziata possiamo migliorarci noi abbiamo un obiettivo di un ulteriore sviluppo di raccolta di circa 500 mila tonnellate come lo facciamo? Facciamo perché abbiamo campagne di comunicazione alla cittadinanza abbastanza spinte quindi noi investiamo tutti gli anni qualcosa come 6 milioni di comunicazione 6 milioni di euro di comunicazione con campagne nazionali e poi perché investiamo con dei bandi che a favore dei comuni aiutano i comuni italiani a sviluppare dei piani di miglioramento della raccolta differenziata i comuni interessati a questo con la nostra assistenza abbiamo una struttura territoriale che aiuta a fare questi progetti questi progetti qua vengono presentati una commissione mista tra noi e dei rappresentanti dei comuni quindi del lanci e se il progetto è approvato da questa commissione viene finanziato fino al 70% per l'acquisto di campane cassonetti tutta quella attrezzatura che si usa per fare meglio la raccolta differenziata e fino al 70% per un progetto di comunicazione locale che è la comunicazione che là dove c'è un comune che fa un'azione comunica direttamente ai rappresentanti del comune io penso che tutti voi speriamo almeno quest'anno sentirete la nostra campagna radio televisiva per aiutare e spingere la cittadinanza la sensibilità di quanto buono è fare la raccolta del vetro però poi se un comune mette le campane una ogni 500 metri e quindi la gente non deve fare due chilometri per portare il vetro quindi ci va altrimenti il vetro non ci va noi pensiamo le cose miglioreranno ulteriormente siamo i migliori d'Europa non è abbastanza quando saremo i migliori del mondo forse questo filone meraviglioso che è poi l'imballo di vetro per quell'altro meraviglioso filone che è il food italiano ci darà ancora di più ecco questo è un po' il nostro grazie grazie Giovanni Scott fino adesso facendo un po' i conti spannometricamente siamo arrivati a 23 milioni di tonnellate di CO2 circa risparmiato adesso con Andrea Fruttero presidente di Arian entriamo in un settore ancora più complesso cioè quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche tra l'altro fondamentale abbiamo visto prima poi critica Roma Tierial ma anche per tanti altri materiali non critici su tutti si pensa al rame e che il ruolo centrale ha la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a livello nazionale Andrea Fruttero prego Sì ne approfitto per illustrare rapidamente questa slide qui solo per chiarire che quando si parla di Arian si parla di un sistema multiconsortile perché diciamo si sta cercando di passare da un consorzio che era specializzato esclusivamente nella gestione di sistema di responsabilità estesa dei produttori sui RAE a un sistema di consorzi dove la specializzazione è sull'EPR cioè un sistema che è in grado di offrire alle filiere che man mano nel tempo saranno assoggettate a sistemi di responsabilità estesa dei produttori il know-how per gestire la filiera in quella logica a prescindere dalla tipologia di prodotto che devi poi gestire in quella logica e quindi come vedete qui c'è Aerion We che si occupa di RAE domestici Aerion Professional di RAE professionali pile accumulatori Aerion Energy per pile accumulatori Aerion Packaging per gli imballaggi dei RAE e infine persino le sigarette perché sono state assoggettate a una sorta di regime di responsabilità sono stati responsabilizzati i produttori per la gestione dei filtri che sono in acetato di cellulose quindi sono finite nella direttiva sulle plastiche manuse detto questo passiamo invece al slide successiva che dà qualche dato relativo all'attività di Aerion We quindi del consorzio che si occupa dei RAE domestici governiamo circa il 70% della raccolta che però purtroppo rappresenta ancora solo circa la metà di quello che dovremmo raccogliere come target paese ovvero il 65% dell'immesso sul mercato della media degli ultimi tre anni dovremmo raccogliere come Italia l'immesso sul mercato mediamente gira attorno al milione di tonnellate sono quindi rifiuti urbani che dovete considerare all'interno dei soliti 30 milioni di tonnellate che generiamo come sistema paese per quanto riguarda gli urbani di questi 30 un milione sono rifiuti da apparecchiature elettriche elettroniche dovremmo raccoglierne 650 mila tonnellate ne raccogliamo circa la metà Aerion ne gestisce 246 mila di tonnellate e guardando a questo dato vediamo che cosa si genera in termini di materie prime che andiamo a recuperare sono circa 5 mila tonnellate di rame 5 mila tonnellate di alluminio 25 mila nel pari di ferro e 100 no quant'è di plastica 32 mila di plastica di plastiche varie plastiche dure ovviamente che nulla hanno a che vedere con le plastiche degli imballaggi c'è poi un risparmio di energia rispetto a questo sistema che è stato calcolato su 375 milioni 317 mila kilowatt ora io ho provato a trasformarlo sotto in megawattora spero di non aver sbagliato perché sono un periodo industriale grafico e non elettronico o elettrico perché uno dei problemi che c'è in genere quando comunichiamo è che usiamo delle unità di misura che noi cittadini non siamo abituati a utilizzare allora se mi dicono che andare da qui al Colosseo ci sono un milione di centimetri capiamo subito che l'informazione è un po' strana perché parliamo di o metri o chilometri ma sappiamo cosa vuol dire quando parliamo di energia uno dei problemi è che la comunicazione in generale ti spara dei numeri che non riesci a valutare perché non padroneggiamo diciamo normalmente queste unità di misura e quindi ad esempio per me il megawattora o meglio ancora il teravattora dà un'idea del valore di quello di cui stiamo parlando perché il teravattora io so che a livello nazionale ne consumiamo sui 300 320 teravattora all'anno allora se mi rendo conto che attraverso questo lavoro si risparmia quasi mezzo teravattora mi dà una sensazione di importanza spararmi di 375 milioni di kilowattora è una roba enorme sì ma enorme quanto a parte questa considerazione e poi c'è il tema ma volevo farla visto che parlavamo anche di rapporto tra economia circolare ed energia e poi c'è la stima delle mancate emissioni di CO2 nell'atmosfera che anche qui è abbastanza significativa questo sul 2022 quindi su un anno di gestione capiamo quindi quanto sia importante raggiungere i target che abbiamo da raggiungere perché questi dati sarebbero minimo raddoppiati sia in termini di materie prime che andremo a ottenere e sia in termini di riduzione delle emissioni e di efficienza nei consumi energetici va detta una cosa che tutto il tema delle materie prime critiche ci è ignoto cioè è ignoto al mondo dei consorzi voi sapete che siamo in un regime di concorrenza tra i consorzi nel settore dei RAE è ignoto per il semplice motivo che tutto quello che viene disassemblato in termini di schede viene comprato da impianti del nord Europa che sono intanto ci sono e qui non ci sono e poi sono performanti in termini economici perché sono ampiamente ammortizzati in quanto sono stati costruiti da molti anni e hanno grandi quantità sono in grado di trattare grandi quantità questo diventa anche un elemento che frena lo sviluppo di impianti nel nostro paese ci sono le tecnologie c'è l'idrometallurgia è molto più efficiente da un punto di vista ambientale rispetto alle pirometallurgie che sono più obsolete come tecnologie che stanno in nord Europa però il problema sono i costi e anche le risorse messe nel PNRR sul settore dell'impiantistica sui RAE si spera che possa portare alla realizzazione degli impianti per il recupero delle critiche raw material nel nostro paese ma resta il fatto che non bastano i soldi per costruire l'impianto poi devi avere i soldi per sostenere attività che senza una quota del contributo ambientale a sostegno non stanno in piedi quindi sistema complesso e che si differenzia molto dai sistemi degli imballaggi per un paio di motivi primo perché i prodotti sono altamente complessi e quindi con tutto il rispetto degli amici degli imballaggi che hanno la loro complessità perché gli imballaggi sono spesso anche sofisticati ma sono spesso anche monomateriale il mondo dei RAE è un mondo di una complessità tecnologica industriale enorme e questi mondi che giustamente il legislatore italiano e europeo cercano di gestire con una responsabilità estesa dei produttori devono partire questo sistema deve partire dall'ecoprogettazione cioè non è pensabile che chi sta a valle debba inventarsi sempre dei sistemi magici per riciclare quello che è stato progettato in maniera sempre più sofisticata e sempre più evoluta nelle slide relative alle batterie prima vedevamo la complessità di quello che viene creato e quindi immaginate che a valle è molto più difficile riuscire a governare questi prodotti che sono difformi tra di loro perché figli di una continua evoluzione spinta quindi se non si governa la progettazione non si potrà immaginare di valorizzare al massimo quello che arriva a fine vita un'altra cosa che caratteristica questo flusso è il fatto che è generato da ciascuno di noi se parliamo dei domestici mentre invece è in modo discontinuo cioè noi ci disfiamo di un televisore una volta ogni tanto mentre dell'imballaggio sostanzialmente ogni settimana ci disfiamo degli imballaggi che la settimana prima sono entrati in casa con la conserva di pomodori piuttosto che con la scatola della pasta e quindi puoi organizzare la raccolta porta a porta ad esempio in modo molto più efficiente se nel caso degli oli usati o dei pleumatici di cui parlerà tra poco Dossena tu hai una generazione in un luogo preciso dal gommista o dal meccanico che sostituisce l'olio per quanto riguarda i RAE tu hai potenzialmente 60 milioni di punti di generazione di rifiuto che però non è costante non è che tutte le settimane puoi organizzare il porta a porta dei RAE perché non è che tutte le settimane uno butta via un telefono o un televisore o un phon per asciugare i capelli quindi c'è una complessità che ci porta a immaginare che dobbiamo smetterla di e questo è una mia riflessione di parlare di rifiuti cioè io non ho mai sentito mai visto un convegno che parla dei prodotti parli di auto parli di c'è sarà il convegno che parla dei televisori che parla del cioè c'è una specializzazione molto elevata che non può più essere rappresentata né i rifiuti i rifiuti ti viene in mente il sacco con la monnezza come si dice qui a Roma ma oggi non è più così è un prodotto post consumo che deve essere gestito in un modo diverso dai rifiuti e quindi io credo che proprio l'economia circolare ci debba portare a una evoluzione dello stesso concetto di rifiuto come io mi offendo se sento parlare di smaltimento perché io voglio sentire parlare di deproduzione allora ho bisogno di una eco progettazione ho bisogno di cambiare anche proprio l'approccio non stiamo più parlando di rifiuti stiamo parlando di prodotti che fino a un minuto prima sono un prodotto che sto usando se decido che questo non mi serve più ma scusate ma questa è una roba che immagini di trovare dentro a un sacchetto nero della spazzatura no questo deve rientrare in un'azienda e quindi logistica di ritorno con delle semplificazioni per la gestione perché non stiamo più parlando dell'immondizia che inquina dei sacchi che puzzano eccetera stiamo parlando di un prodotto che così come è entrato in casa mia spesso attraverso l'e-commerce deve riuscire da casa mia con un sistema che è diverso da quello della gestione dei rifiuti immaginata nel secolo scorso che era la gestione che presiedeva al fatto che non doveva avere i rifiuti che puzzavano per strada e qui è un mondo diverso e quindi abbiamo bisogno di affrontare questo cambiamento in questo modo e i RAE sono diciamo un elemento che ci spinge in questa direzione proprio per la loro complessità per la loro ricchezza di materia prima per la complessità del prodotto tecnologico che dobbiamo andare a intercettare grazie grazie Andrea Pluttero è tutto un tema di quali saranno poi i luoghi anche per raccogliere i RAE e soprattutto come incentivare perché io penso a quante famiglie hanno a casa propria telefonini che probabilmente non funzionano più o se funzionano sono talmente vecchi che non sono assolutamente aggiornabili magari non sono neanche gli standard e tutti quegli oggetti elettronici andrebbero recuperati se non è che si parla di giacimenti urbani ma non quelli dei discali ma quelli che rimangono nelle nostre case le nostre soffitte le nostre cassette che sono quantità importante per uno che ha trazopo la porta a tempo ti assicuro che il trazopo è una fonte di RAE ah sì sì le prossime mire saranno cantine e solai da questo punto di vista grazie grazie da Andrea Fruttero Federico Dossena ultimo consorzio quello dei pneumatici fuori uso che anche qua ottimi risultati ovviamente avete la fortuna di avere un punto dedicato per il recupero perché ci sono stati problemi in passato per cercare di concentrare e raccogliere tutti i pneumatici disponibili com'è la situazione oggi anche dal punto di vista qualitativo e quali obiettivi avete raggiunto dal punto di vista delle missioni così arriviamo al cumulato complessivo di tutti e cinque prego bene grazie grazie a tutti buongiorno anche da parte mia pneumatici fuori uso questa sorta di vecchia ciabatta che guardiamo con compiacenza quando ce ne disfiamo dal gommista che diventa il punto di generazione del rifiuto stesso ecco Pneus consorzio quindi società senza scopo di lucro esistente da una dozzina d'anni quindi siamo un po' i più giovani in questa compagine con un risultato che però già traguarda gli obiettivi ministeriali perché noi abbiamo l'anno scorso su richiesta del ministero siamo andati ad aggiungere quasi il 20% in più del nostro target raccogliendo circa 230.000 tonnellate di pneumatici fuori uso questo perché perché la raccolta dei pneumatici fuori uso è soggetta a un decreto ministeriale che attribuisce ai produttori la responsabilità estesa del rifiuto quindi i produttori si fanno carico di andare a intercettare sul territorio gratuitamente il materiale da portare a riciclo quali sono stati quindi le conseguenze l'impatto di questa di questa raccolta beh innanzitutto diciamo che l'efficacia di aver raccolto questo volume di pneumatici che a loro volta sono composti da materiale particolarmente sofisticato perché il pneumatico ci deve garantire la tenuta di strada la frenata ma anche l'accelerazione fare in modo che non consumiamo tanto carburante quindi la complessità delle mescole di cui è composto è effettivamente un prodotto che lo rende sofisticato e che ha un pregio mantiene queste caratteristiche nel tempo nonostante l'usura del battistrada quindi quel prodotto quel materiale che abbiamo tra le mani ecco diventa preziosa fonte di proprietà e caratteristiche che possono poi migrare in altri settori industriali perché non rifacciamo pneumatici da pneumatici consumati come per il vetro come per l'acciaio perché purtroppo la vulcanizzazione ne impedisce la reimmissione nelle mescole naturali che vengono utilizzate per fare il pneumatico nuovo pertanto dobbiamo cercare dei mercati di sbocco delle filiere di sbocco a cui proporre le qualità diciamo di elasticità prevalentemente della gomma di cui è composto il pneumatico in modo tale da poterlo riutilizzare questo porta nella parte bassa a destra della slide a verificare come effettivamente quindi un 40% di questo materiale venga riutilizzato effettivamente in applicazioni materiche mentre un 60% viene tutt'oggi utilizzato come combustibile secondario all'interno di strutture ovviamente adeguate come cementifici una nota di colore visto che parliamo di energia combustibile secondario di questo 60% di destino a recupero energetico solo poco meno del 40% rimane in Italia il resto lo devo mandare all'estero molto spesso anche pagando quindi assistiamo a questo paradosso in cui abbiamo a disposizione una fonte di energia che comunque è la seconda scelta rispetto al recupero materico però le autorizzazioni degli impianti italiani non sono tali da poter essere utilizzati qui sul territorio benché le autorizzazioni caso per caso di cui si parlava prima effettivamente non sono così efficaci nell'arrivare a questo utilizzo quindi li mettiamo su un camion che arriva a un porto li mettiamo su una nave e li spediamo tutti oltreoceano dove i cementifici esteri godono di questo beneficio di vantaggio energetico e poi riportano clinker in Italia a fare dumping alla nostra industria cementizia guardiamo invece alla parte positiva il 40% che viene recuperato come materia in basso a sinistra nella slide quindi 70.000 tonnellate l'anno che vengono indirizzate in diverse applicazioni la preponderanza il 55% viene utilizzato nelle superfici sportive quindi campi da basket da volley da pad laddove l'elasticità consente al giocatore di poter fruire di una superficie che evita l'ingenerarsi di infiammazioni o contratture muscolari un 17% invece come manufatto quindi opportunamente polverizzato e unito a resine o a plastiche si utilizza per realizzare tipicamente arredi urbani o stradali un 16% come componente per l'edilizia come pannello fonoassorbente e poi ahimè un 1% e lo sottolineo con malinconia destinato all'utilizzo nelle superfici stradali ora abbiamo Ecopneos ha finanziato studi con enti di ricerca con università abbiamo raccolto dall'esperienza americana il fatto che unire il polverino di gomma nel bitume conferisce all'asfalto una durata oltre a 4 volte rispetto agli asfalti tradizionali che vuol dire non ingenerarsi di crepe non ingenerarsi di buche quindi un abbattimento dei costi di manutenzione ecco questa cosa in Italia non viene recepita in maniera particolarmente entusiasmante i nostri cugini spagnoli hanno imposto per decreto l'utilizzo di una certa percentuale di polverino negli asfalti si sono fatti 7000 km di strade che mantengono a costi veramente ridicoli mentre noi con i nostri sforzi di ecopneus ne abbiamo asfaltate circa 700 di chilometri ma sempre per un intervento diretto nostro quindi la sensibilità e la comunicazione anche qui giocano un ruolo fondamentale nei confronti non solo del cittadino ma anche del decisore politico o amministrativo ecco tutta questa attività che svolgiamo ogni anno cosa ha portato vi mostro al centro della slide i benefici ambientali ed economici che abbiamo raggiunto nel 2021 perché i dati del 2022 li stiamo ancora trattando elaborando abbiamo un risparmio di 310.000 tonnellate di CO2 equivalente immessa in atmosfera 1.230.000 di metri cubi d'acqua risparmiati e quindi 282.000 tonnellate di materie prime risparmiate quindi l'impatto sull'economia circolare del nostro paese direi è a nostra volta quanto meno sensibile e ci uniamo ai brillanti risultati dei nostri colleghi con il risparmio di natura economica che poi alla fine è quello che dà valenza a tutta l'operazione bene nel 2021 abbiamo contribuito al risparmio del nostro bilancio commerciale italiana per quasi 80 milioni di euro di mancate importazioni di materie prime quindi in questo in questo sistema questo sistema ecco ci tengo a sottolineare che anche noi come come consorzio ci siamo subito mossi e quindi già da più di 10 anni che lavoriamo con le scuole in modo tale da creare consapevolezza nelle giovani generazioni di che cosa significa poter avere una materia prima a disposizione e mantenerla nel tempo il più possibile proprio per andare a evitare di corrompere questa nostra navecella spaziale continuando a estrarre materie prime quindi un grosso lavoro fatto con le scuole in collaborazione con con legambiente ma comunque abbiamo una una non è solo merito nostro intendo però è un'attività che che svolgiamo con costanza proprio per andare a essere incisivi proprio sulle giovani generazioni quindi abbiamo compreso il livello di necessità di comunicare bene questa cosa grazie 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 a Federico Dossena abbiamo raccolto tanti spunti cercare di orientare per non far risuonare il microfono il più importante è forse quello della qualità sulla quantità diciamo siete tutti nella Champions League a livello europeo sulla qualità si fa già molto però si può migliorare soprattutto il rapporto con il cittadino il rapporto con le aziende con l'innovazione tecnologica con la comunicazione con OU quali sono le vostre spide sul tema della qualità che so che vi siete focalizzati in particolar modo negli ultimi anni visto poi i risultati eccezionali noi abbiamo questa Q maiuscola in tutti i nostri documenti adesso che comincia ad apparire allora la qualità dell'olio in ingresso fu stabilita nel 96 da un decreto che fissava i parametri per la rigenerabilità o meno dell'olio tutto sommato sebbene i metodi di misura siano un po' antiquati perché dal 96 adesso certe cose non si riescono più nemmeno a fare con quei metodi nel senso che non esistono più nemmeno gli strumenti stiamo infatti lavorando in un gruppo di lavoro che cerca di aggiornare le metodiche non per cambiare i parametri di riferimento ma per cambiare il modo di misurarli che si trovano più nemmeno le apparecchiature per certe misure però la qualità di ingresso un conto è stabilire i limiti e un conto è gestirla mi spiego meglio noi abbiamo fatto un grande lavoro perché nella qualità dell'olio che ci arriva ogni volta ci possono essere delle sorprese negli ultimi anni per esempio prima si parlava di vetro che bello che bello il vetro noi purtroppo troviamo soprattutto a causa delle lavorazioni con le emulsioni nelle industrie di leghe leggere tanto silicio nell'olio e quindi capita che questo silicio quando è in quantitativi troppo alti nel nostro olio usato finisce in un reattore di rigenerazione e vetrifica allora forse voi siete contenti ma noi no noi no e quindi abbiamo dovuto gestire il tema della qualità cercando di concentrare il problema in volumi piccoli ad altissimo tasso di fra virgolette inquinamento perché il silicio non è un inquinante dannoso però è un inquinante per il nostro processo quindi abbiamo dovuto lavorare con i produttori con i nostri raccoglitori però per evitare i fenomeni di miscelazione quindi la qualità in ingresso al di là delle norme va garantita con un processo di attenzione di gestione di concentrazione degli inquinanti noi oggi come dicevo prima bruciamo solo l'1,5% dell'olio tanti anni fa ne bruciavamo il 25% e questo processo è un processo di gestione della qualità in ingresso l'altro parametro di qualità almeno nel nostro caso adesso qui non voglio estenderlo a tutte le filiere è la qualità in uscita la qualità in uscita è importante gli impianti che noi abbiamo avuto la fortuna di avere perché la storia della rigenerazione degli oli in Italia è antichissima iniziata negli anni 40 con un decreto diciamo autarchico che diceva priorità la rigenerazione obbligo di consegne e così via beh i nostri impianti le tre impianti che ci sono in Italia sono impianti che si sono evoluti si sono aggiornati e producono oli di assoluta qualità comparabile a quella delle basi vergini beh questo è un po' il segreto perché se no il prodotto di serie B difficilmente troverebbe allocazione sul mercato che succede oggi qual è la sfida di oggi perché come dicevo prima l'ingresso la qualità in ingresso c'è la sfida di gestire la qualità e le novità come il silicio alla qualità in uscita la sfida è che abbiamo qualche rigeneratore improvvisato cioè siccome rigenerare è diventata una cosa importante il consorzio devo dire incentiva le rigenerazioni ci sono dei rigeneratori improvvisati che dicono io ho una pentola scaldo l'olio lo faccio un po' a bollire gli do una pulita e spero che funzioni bene allora la rigenerazione vera non è questa la rigenerazione vera è una cosa che funziona in modo molto sofisticato andando dopo i primi processi di separazione e distillazione a toccare le molecole a levare l'atomo di inquinante uno a uno magari con qualche atomo di idrogeno sparato dentro ad alta pressione ecco quindi la rigenerazione è una cosa seria perché se il prodotto finale poi non è di qualità si rovina tutta la filiera e tutta l'immagine della filiera ecco quindi noi stiamo facendo una battaglia che ahimè qualche volta finisce anche nei tribunali per la difesa della qualità del prodotto rigenerato quindi qualità in ingresso prima Q qualità in uscita seconda Q terza qualità è la qualità dei processi noi stiamo lavorando sulla qualità dei processi perché la nostra rete di raccolta si migliori sempre perché si riducano le cose che non hanno funzionato i cosiddetti declassati tanto per farvi un esempio che sono quelle partite di olio che si pensava fossero buone che invece al momento ci troviamo che non lo sono quindi sono state valutate preventivamente in modo poco corretto che si riducano tutti il contenuto di acqua per esempio nell'olio ahimè c'è un alto contenuto di acqua perché l'olio viene raccolto ma è esposto alle intemperie perché comunque un po' d'acqua già c'è perché se è stoccato male gestito male si forma l'acqua ecco stiamo lavorando su tutta la qualità dei processi nelle nostre varie fasi di raccolta in modo tale da levare la barriera di ingresso alla raffineria nel miglior modo possibile con migliori varianti possibili con le minori e con la migliore qualità possibile e questa è la qualità interna al sistema quindi qualità in ingresso qualità in uscita qualità dei processi qualità dei processi significa anche digitalizzazione stiamo lavorando a dei progetti anche su questo non solo all'interno del consorzio ma anche a livello di filiera anche perché noi abbiamo tante imprese qualcuna è piccola quindi vanno anche aiutate supportate perché non hanno la forza di affrontare progetti importanti di digitalizzazione però la qualità credo che sia un po' il leitmotiv e d'altra parte lo diceva anche la muto prima che la qualità importante la qualità nella raccolta differenziata è fondamentale quindi tutto quello che è economia circolare con la parola qualità va d'accordo grazie Domenico Rialdini pongo la stessa domanda perché sono curioso di sapere qual è la vostra sfida a cui nel consorzio quali sono le tematiche che dovete affrontare ma per quanto riguarda la qualità io credo che diciamo bisogna guardare alle varie fasi no allora per avere un per migliorare il livello qualitativo ci vuole sicuramente un sistema di raccolta che sia fatto molto bene e su questo devo dire con Anci negli ultimi anni stiamo lavorando molto bene per quanto ci riguarda la raccolta dell'acciaio in genere viene fatta con altri materiali cioè o con la plastica o col vetro in alcuni casi ma l'acciaio si seleziona molto semplicemente molto facilmente quindi nella prima fase di raccolta è importante avere come dire il supporto del cittadino e quindi questo va sostenuto con campagne di informazione però il problema è quello che un po' poi si accennava prima cioè per convincere il cittadino noi abbiamo visto in questi anni guardate che quando siamo partiti si avevano dei dubbi no ma il cittadino poi abbiamo visto che in termini quantitativi se tu organizzi bene la raccolta dai comunicazione metti il cittadino in condizione di poterla fare la si fa oggi c'è una sensibilità ambientale che è molto più profonda di qualche anno fa per cui tornando un po' al discorso bisogna supportare con una campagna informativa di comunicazione però bisogna poi in qualche modo che il cittadino abbia un ritorno un ritorno che non è solo secondo me che non può essere solo quello in termini economici cioè di vedere che quello che fa poi si traduce in una riduzione della bolletta che è molto importante che in qualche modo bisognerà poi trovare il sistema di concretizzarla ma anche in questa fase di comunicazione io sento molto spesso magari nel bar dove si va a prendere il caffè la frase sì vabbè ma si fa si mette la faccia differenziata poi si raccoglie tutto assieme va a finire non è così quindi anche su questo io credo che ci sia la necessità di lavorare anche qui con una comunicazione indirizzata al cittadino è un flash velocissimo invece sull'efficientamento dei processi di recupero ma soprattutto di riciclo di raccolta di riciclo su quello noi abbiamo visto questo cioè questo è un'esperienza nostra che credo che sia come dire ci ha dato degli ottimi risultati allora noi quando siamo partiti con il sistema di raccolta questo materiale perché la maggior parte del materiale che si raccoglie è banda stagnata cioè acciaio ricoperto da stagno aveva poco lavoro poco valore noi abbiamo svolto un'attività molto importante che è prevista anche dal decreto che è prevista che si parla poco ma che viene fatto da tutti i sistemi che è quello della valorizzazione di quello che si raccoglie noi all'inizio avevamo un'incidenza del cacca sui nostri ricavi del 90% il che voleva dire che il 10% era quello che si ricavava dalla vendita dei materiali oggi mediamente negli ultimi anni abbiamo il 70% di incidenza dei ricavi provenienti dai ricavi di cessione del materiale e 30% dal cacca quindi questo è un altro beneficio poi della filiera questo è stato possibile perché nel processo diciamo a valle della raccolta quindi quello di selezione di preparazione abbiamo visto che le acceerie soprattutto i forni elettrici che all'inizio sembrava che difiutassero o che avevano problemi con il nostro materiale non era questo il problema il problema era quello di avere materiale identificato e titolato e quindi questo poi ci ha consentito quindi anche questo aspetto è molto importante cioè quello di controllare tutta la filiera poi di preparazione del materiale prima dell'effettivo riciclo perché questo porta ad una maggiore valorizzazione se si raccoglie bene porta maggiori corrispettivi ai comuni che possono restituire qualche cosa al cittadino e all'intero sistema se il materiale è di buona qualità quando lo si vende nella fase finale porta maggiori ricavi che ti consentono di ridurre il cacca e quindi anche in questo un ulteriore beneficio per il consumatore grazie Domenico Rinaldini Giovanni Scott il vetro materiale che difficilmente viene corrotto nella sua qualità ha una storia di raccolta lunga mi ricordo da bambino che portavo il vetro quindi il problema del vetro è un problema qualitativamente importantissimo cioè il vetro il vetro noi frequentemente nella nostra comunicazione parliamo di falsi amici ovvero sia il cristallo il cristallo che è una delle cose più pericolose però voglio dire facciamo così cominciamo dalla ceramica un infuso ovvero sia il vetro va in fusione se tu all'interno della fusione ci lasci dei pezzettini di ceramica alla quale non fonde entriamo nella dimensione industriale la dimensione industriale una vetreria normale ha un forno un forno normale produce 65 giorni all'anno compreso Natale e Capodanno più di 2 milioni di pezzi nell'Italia normalmente ogni giorno si fabbrano più di 20 milioni di pezzi fra bottiglie e vasi una quantità enorme un infuso in genera un problema durante il processo di produzione quando si generano prese di produzione non si scartano 4 o 5 bottiglie si scartano 20-30 mila bottiglie prima di riuscire a fare in modo che quindi il problema qualitativo è particolarmente importante da che quindi come dicevo prima gli impianti di trattamento che trattano il rottame non sono impiantini cioè un impianto di trattamento di media capacità e di buona tecnologia costa più di 20 milioni quindi stiamo parlando di impianti industriali per il trattamento particolarmente sofisticati che noi immaginiamo e siamo abbastanza convinti sono i fra i migliori al mondo cioè per darvi un'idea che cosa succede dobbiamo eliminare come dicevo prima la ceramica poi c'è il cristallo certo il cristallo noi rinunciamo alla raccolta dei bicchieri perché nei bicchieri ci sta del cristallo ma perché il cristallo che cosa è il cristallo il cristallo ha il piombo il piombo vuol dire che siccome i nostri prodotti vanno a contatto con alimenti c'è una normativa precisa che indica quale in parti per milione nel massimo quantitativo di piombo possibile c'è una normativa europea peccato che gli americani hanno la metà di quel livello lì quindi siccome quando facciamo una bottiglia per il vino non sai mai se vai in illinois piuttosto che in germania dobbiamo stare sotto quel livello bene allora il piombo lo si riconosce attraverso un passaggio particolare con degli ultravioletti che evidenziano il pezzettino di vetro di piombo fatto è così per dirvela un impianto di trattamento il rotame dopo le prime valutazioni passa su un nastro all'interno del nastro sotto ci sono in un metro quadrato qualcosa come più di 10.000 punti di soffio le telecamere inquadrano vedono il pezzetto di infuso non trasparente vedono il pezzetto che rimane violaceo perché è almeno e ingettano un soffio d'aria che fa eliminare il pezzo tenete conto che la velocità di reazione fra la telecamera di impulso del soffione è 5 volte più veloce della velocità con cui il vostro cervello dice al dito di muoversi quindi è un livello di tecnologia veramente importante ed è su questa base qui che riusciamo a fare anche i numeri che abbiamo detto che voglio dire hanno dato qualcosa di molto importante poi ci sono anche le cose un pochettino più banali nel senso che quando andiamo a portare il vetro magari lo mettiamo dentro 5 bottiglie nel sacchetto di plastica e buttiamo anche il sacchetto di plastica banale il problema è che il sacchetto di plastica specialmente quelle meravigliose bioplastiche al momento particolarmente interessanti si sfilacciano diventano dei fili non riusciano a buttare li amintassano l'impianto scatenano l'incendio e non vi voglio dire cosa vuol dire tutta gente che lavora come dicevo prima a ciclo continuo non ci si ferma nell'industria del vetro è sempre quindi il problema qualitativo parte sempre all'inizio quindi grandi interventi di comunicazione al cittadino grandissimi interventi sulle scuole per fare in modo che via via le persone e poi comunque una tela di penelope siamo fatti così oggi ci siamo domani non ci saremo più e i nuovi non sanno tant'è che l'indagine statistica che ci fa vedere chi sono i migliori cittadini per il conferimento sono quelli là che ha una fascia d'età un certo tipo e che quindi cambieranno e pertanto il livello qualitativo è veramente qualche cosa di particolarmente delicato che ha richiesto per noi e continua a richiedere investimenti tecnologici importanti e investimenti in comunicazione ancora più importanti ma continuativi ecco questa è la problematica qualitativa del vetro grazie grazie Giovanni Scotti Andrè Fluttero l'abbiamo tirato fuori prima il tema del come raccogliere i RAI sì i negozi dovrebbero essere uno dei punti della filiera di raccolta oggi non tutti sono sempre come dire strutturati per farlo alcuni lo dovrebbero fare non sempre lo fanno nel consumatore lo dico io stesso per mia esperienza non c'è sempre chiarezza come idealmente bisognerebbe strutturare questa reverse logistici dei rifiuti elettronici urbani privati infatti prima ancora che il tema della qualità noi abbiamo il tema della quantità posto che quello che si raccoglie viene riciclato quasi al 90% quindi dal punto di vista degli impianti c'è un buon livello di qualità peraltro tutti i sistemi consortili normalmente non hanno impiantistica di loro proprietà quindi il fatto stesso di comprare sul mercato il servizio ti porta ad avere sempre un'evoluzione degli impianti perché essendo in concorrenza tra di loro gli impianti di riciclo tendono a innovare per essere più competitivi quindi il meccanismo diciamo relativo alla qualità dell'impiantistica è garantito dalla concorrenza c'è un problema di qualità della raccolta perché abbiamo sia temi sia problemi di cannibalizzazione come si usa dire nel nostro settore ovvero laddove si deposita il materiale che sia il centro di raccolta comunale o il luogo di raggruppamento della grande distribuzione specializzata purtroppo spesso c'è il furto delle parti delle componenti più preziose dei rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche questo vuol dire che si impoverisce il riciclo del flusso gestito dai sistemi consortili e si creano dei flussi paralleli di riciclo a quel punto molto meno controllati e tipicamente di scarsa qualità quindi c'è diciamo una serie di problemi da affrontare prima di tutto lo dicevo già anche prima il dialogo tra chi produce e chi immette sul mercato europeo determinati prodotti che deve dialogare poi con la gestione del post consumo perché in quel modo hai la possibilità di migliorare anche la qualità di quello che vai a recuperare il tema della riduzione invece del costo per i cittadini in questo caso è un po' diverso e qui è un ulteriore elemento che testimonia la specificità di queste filiere non dico solo dei RAI ma di tutte le filiere che non sono continue e omogenee come utilizzo dei prodotti perché io magari cambio 5 televisori all'anno il mio vicino di casa per sua scelta non ha il televisore quindi qui si sposta il costo della gestione del prodotto post consumo dal cittadino al consumatore e quindi il contributo ambientale è l'elemento che va a prelevare il costo di questa gestione più dal consumatore che non dal cittadino perché invece il cittadino generico consuma imballaggi in modo abbastanza omogeneo non è che uno dice no a casa mia gli imballaggi non entrano più o meno entra da tutte le parti anche quelli che vanno a comprare il prodotto sfuso insomma sono un'estrema minoranza il grosso dei cittadini consuma diciamo imballaggi mentre invece apparecchiature elettriche elettroniche è molto diversificato e questo è un elemento che va tenuto presente quando si fanno anche ragionamenti sull'utilizzo del contributo ambientale come strumento per incentivare il cittadino perché il cittadino alla fine su una piccolo quantitativo diciamo di riduzione non ha uno stimolo la raccolta differenziata al nostro modo di vedere al mio modo di vedere va fatta bene punto non è che puoi farla hai due opzioni lo fai bene o male no la fai bene se non la fai bene ti sanziono non è che ti devo premiare se la fai bene ti punisco se la fai male non capisco per quale motivo uno dovrebbe essere premiato se la fa bene ma devi fare così queste sono le caratteristiche la fai così una volta che hai imparato a fare la fai ti chiedo un flash velocissimo sul fatto di che ruolo possono avere nuovi modelli di business pensiamo al buyback dei prodotti elettronici come piuttosto la classica permuta ma anche il prodotto come servizio quindi dove il produttore rimane proprietario del bene e il cittadino è solamente un usufruente del prodotto che ruolo possono e potranno giocare questo tipo di modelli nella ma soprattutto soprattutto sui prodotti complessi come era giocherà sicuramente un ruolo importante anche con il cambiare delle generazioni perché io appartengo ancora a una generazione alla quale il possesso del bene ti rassicura le nuove generazioni sono molto più aperte al second end ai prodotti allo sharing al noleggio di un prodotto sofisticato perché questo ti garantisce di avere degli aggiornamenti degli upgrade costanti quindi indubbiamente questo è un modello che sta cambiando come anche la distribuzione cioè è sotto gli occhi di tutti la distribuzione sta cambiando velocemente allora per fare un esempio una cartuccia di una stampante se entra a casa mia con un corriere non vedo per quale motivo non possa andare verso l'impianto che lo ricicla attraverso un corriere con della modulistica assolutamente semplificata se invece devo alzarmi da casa mia prendere la cartuccia e portarla al centro comunale non lo faccio lo butto nell'indifferenziato e questo quindi sono cambiamenti dei modelli sia di distribuzione che di uso dei prodotti di cui il legislatore deve tenere conto noi come consorzi poi alla fine siamo uno strumento del legislatore c'era un comico che diceva tu mi dici cosa devo fare e io lo faccio ciascuno di noi può avere delle proprie idee personali ma poi quando sei consorzio sei strumento di un sistema sociale che ha scelto di fare un certo tipo di attività e io dico spesso provocatoriamente che il sistema più economico di gestire i rifiuti è di buttarle dalla finestra tutto quello che c'è dopo la scelta di mettere in piedi la raccolta fatta tanti anni fa di costruire discariche le prime senza teli di impermeabilizzazione si andava dove c'era il sottofondo diciamo in argilla che reggeva quella successiva di mettere un telo di metterne due di fare i pozzi di captazione per prelevare il gas di fare il recupero energetico e adesso di fare il recupero di materia sono tutte scelte che successivamente hanno reso più complesso più sofisticato e più costoso il sistema al netto dei ricavi ma non esiste un sistema di gestione di prodotti post consumo barra rifiuti che generi utili hai sempre bisogno di un costo e spesso questo costo nei sistemi di responsabilità estesa è un costo che tu paghi già quanto compri il prodotto è un altro elemento che deve diventare di consapevolezza del consumatore ad esempio nei RAE a mio modo di vedere è un po' e chiude è un po' un peccato che molti consumatori non sappiano che quando comprano un prodotto elettrico elettronico stanno comprando non solo la materia prima il progetto l'ingegnerizzazione la commercializzazione ma anche la gestione corretta del post consumo al netto dei ricavi delle materie prime questa consapevolezza secondo me è importante nel consumatore e quindi non pensare che dice l'ho già comprata l'ho già pagata e pretendo che sia gestita correttamente anche dal punto vendita perché ci sono dentro i soldi per gestire anche quella funzione e qua ancora torna il tema della comunicazione tant'è che appunto anche sugli scontri sull'acquisto andrebbe chiaramente reso chiaro tra l'altro non so se in Italia perché io conosco bene negli Stati Uniti che quando compri un prodotto elettronico ti dice già la tassa di smaltimento di gestione in Italia così c'è scritto si vede in maniera c'è scritto ma è molto più chiaro nei pneumatici perché nei pneumatici c'è il gommista vedi proprio 200 euro di pneumatico più il contributo ambientale nell'apparecchiatura elettrica elettronica magari c'è scritto contributo ambientale assolto piccolino ma non è che di Catania anche perché c'è una grande quantità di prodotti e quindi magari è difficile su un prodotto che costa 12 euro mettere 0, di eco contributo però indubbiamente la consapevolezza del fatto che tu consumatore compri anche la gestione del post consumo a mio modo di vedere è un'evoluzione di consapevolezza da parte dei consumatori utile grazie grazie Andrea Fruttero Federico Dossena partiamo proprio da qua quanto ha impattato anche comunicare la gestione del fine vita dei pneumatici ai consumatori e poi ovviamente per concludere il giro quali sono le criticità per la qualità del recupero al riciclo allora l'impatto sulla comunicazione lo abbiamo visto in alcuni episodi specifici mi riferisco alla terra dei fuochi dove abbiamo stabilito un protocollo con il ministero e siamo l'unico consorzio che agisce per andare a prevenire il formarsi di depositi di pneumatici abbandonati ecco questi pneumatici sono stati poi trasformati in campi sportivi messi a disposizione ovviamente per il cittadino e oggi vediamo chiaramente opportunamente comunicando questo tipo di attività ovvero incentivando il lecito conferimento del pneumatico al punto di generazione attraverso il suo acquisto tramite scontri di una fattura il cittadino che si vede restituire un campetto per la propria attività sicuramente ne diventa poi parte attiva responsabile il caso principe che con i colleghi della comunicazione raccontiamo è il campetto di calcio di Scampia che è un gioiello difeso contro il vandalismo proprio dagli abitanti del quartiere stesso quindi conferma che la giusta comunicazione con i giusti criteri dà riscontro come diceva anche poco fa il collega sul discorso del comunicare al cittadino che quindi si ingaggia e diventa responsabile dal punto di vista della qualità io farei un passo oggi la qualità non è un grosso problema nella gestione di pneumatici noi raccogliamo indistintamente tutti i marchi tutte le qualità dalla motocicletta fino al movimento terra e vengono bene o male tutti avviati alla stessa attività di recupero questo comunque è ancora il modello diciamo così iniziale proposto ovvero con trattamento meccanico e il conseguente utilizzo della materia prima sbriciolata noi oggi quello che stiamo facendo è il passo dopo quindi andare a cercare la possibilità di recuperare monomeri e polimeri contenuti nei pneumatici per poterli avviare poi a un riciclo di natura chimica che ci permetta di riottenere le stesse molecole e quindi andare a chiudere il cerchio reinserirle nel sistema di produzione pneumatico ecco lì in quel momento quando con l'aiuto della collaborazione con Ispra e il ministero avremo un end of waste che includa anche questo riciclo chimico come possibilità avremo la possibilità quindi di sviluppare impianti sofisticati che quindi prediligeranno un sorting per brand perché ovviamente ciascuno ci mette dentro la ricetta quindi sarà importante riuscire poi a selezionarlo in quella direzione ci stiamo lavorando ma il pneumatico rivulcanizzato quindi oltre che possibile avrà anche un impatto energetico diverso dal punto di vista della produzione allora diciamo che il pneumatico ricostruito sostanzialmente quindi con la fascia battistrada è ancora un pneumatico usato che rimane nel mercato e comunque avrà ed ha tuttora perché soprattutto nel traffico pesante è un sistema molto utilizzato però noi non lo guardiamo quello perché a noi arriva il pneumatico fuori uso quello che proprio non ce la fa più e quindi deve essere avviato al recupero allo smaltimento grazie il tempo purtroppo è tiranno sono già scusate il ritorno dell'audio come? sì 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 dovete alzarvi voglio ringraziarvi innanzitutto per questa discussione interessantissima grazie per il contributo di tutti e cinque direi un applauso per la vostra partecipazione e volevo concludere il lavoro di questa mattinata che ha aperto tanti spunti di riflessione tante questioni portato tante idee al tavolo volevo invitare Roberto Morabito direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali dell'Enea per fare un po' il punto su questa mattinata di lavori e vedere un po' quali risultati sono emersi e quali sono le conclusioni che possiamo tirare lascio il podio prego grazie Emanuele buongiorno a tutti intanto un ringraziamento a Conoei e in particolare a G.B. Zorzoli col quale mi associo agli auguri di pronta guarigione che mi ha invitato a tenere le conclusioni che quindi con veramente piacere e G.B. mi ha anche chiesto di portare dei dati oltre alle conclusioni che a questo punto potrebbero anche essere ridondanti perché gli spunti dalle presentazioni e dalla tavola rotonda bastavano e avanzavano per fare molte e molte conclusioni però presenterò questi dati cercando però di agganciarmi a quanto è stato pubblicato eh sì e quanto è stato presentato alcuni di questi dati li avete già visti e li avete e li avete già visti perché in realtà se parliamo di contributo dell'economia circolare alla transizione energetica beh intanto diciamoci che le fonti dei dati non sono tantissime ce ne stanno io ne ho prese e quelle che vedrete anche altre però principalmente da questi report di cui a parte quello della della IEA gli altri quattro sono focalizzati appunto sul supporto di economia circolare sono alcuni episodici uno che è stato già citato da Piunti il circularity gap e periodico con con cadenza con cadenza annuale vado con questi dati in maniera molto molto veloce visto anche il tempo e anche perché su come vedrete su ognuno di questi dati si potrebbe parlare e parlare e parlare a lungo parto dalla Ellen MacArthur Foundation le emissioni globali l'ultimo l'ultima edizione di questo rapporto è del 2021 i dati però sono relativi al 2010 vedete le emissioni vedete le emissioni globali e vedete come il 55% io non vedo il puntatore eh abbiate pazienza ecco solo allora vedete il 55% delle emissioni globali sono eh relative alla produzione di energia e agli usi finali della stessa nei principali settori della società ma il 45% di queste emissioni sono completamente svincolate dal tema energetico e sono relative all'utilizzo eh all'utilizzo dei prodotti e alla gestione dei territori eh alla gestione dei territori e delle foreste eh le emissioni globali al 2010 erano intorno ai 50 miliardi di tonnellate vi anticipo lo vedrete che oggi siamo a 60 miliardi di tonnellate come emissioni e contemporaneamente la eh l'utilizzo eh di risorse non energetiche eh l'utilizzo di risorse materiali aumenta ancora eh aumenta ancora di più questo è un grafico che Piunti ci ha mostrato dal Circularity Gap eh questa questa mattina e potete vedere eh l'andamento del dell'utilizzo dei materiali che negli ultimi 50 anni tanto per dire a partire da Boulding e Peccei che eh sono state citate quindi dal rapporto sui limiti del pianeta del del club di Roma sono praticamente quadruplicate ma ancora più interessante vedere che dal 2000 eh sono eh praticamente eh sono praticamente raddoppiate no allora questo è un altro eh questo sempre dal Circularity Gap Report eh che ci fa vedere come attualmente eh noi utilizziamo eh 100 miliardi di tonnellate di risorse eh anche questo era un grafico presentato da Piunti a 100 miliardi di tonnellate abbiamo 15 miliardi eh di eh tonnellate equivalenti di CO2 eh emesse e oltre 30 miliardi di rifiuti di questi soltanto come appunto è stato detto eh 8 e 6 rientrano nel eh nel consumo e quindi ci danno il tasso di circolarità di circolarità globale che stiamo all'8 e 6 per cento quest'anno è stato anche citato ma lo voglio sottolineare sempre da Piunti l'altro anno lo scorso anno eravamo al 9 e 1 adesso i dati che ci stanno anticipando parlano del eh parlano del 7 eh del 7,6 quindi stiamo decisamente rallentando se nel quadro dei materiali andiamo a vedere il discorso delle materie prime critiche anche queste citate materie prime critiche che sono le materie prime fondamentali alla eh diciamo industria di alta qualità ma quella più legata al nostro benessere alla qualità della vita ma anche alla transizione energetica come vedremo ecco questo dal punto di vista nostro europeo dal punto di vista della commissione europea eh e la ehm le tecnologie quindi eh le materie prime critiche in quali tecnologie in quali settori sono necessarie vengono classificate in funzione del rischio rispetto a noi commissione a noi Unione eh Unione europea eh rischio intanto vedete che eh buona parte delle materie prime critiche per buona parte sono funzionali sono a supporto della eh delle tecnologie energetiche e per quanto riguarda proprio queste il massimo rischio rischio che è dato certamente dalla quantità disponibile di materie prime critiche a livello planetario quelle della crosta terrestre tanto per intenderci ma anche soprattutto dal nostro punto di vista europei dal rischio di approvvigionamento perché la maggior parte di queste sono prodotte in paesi o a grande competitor eh mondiali come la Cina o a fortissima instabilità sociale e politica che mette a rischio appunto l'approvvigionamento per la nostra industria qui vedete in questo grafico i principali produttori di materie prime critiche e nei primi dieci paesi nei primi dieci produttori globali produttori mondiali non c'è nessun paese europeo e questo ci porta a una a un'altra riflessione che è quella noi abbiamo assolutamente necessità di uscire dai combustibili fossili e di effettuare una transizione una transizione energetica per n motivi tra cui il principale è il discorso del cambiamento climatico ma tra questi motivi un ulteriore motivo e lo stiamo vivendo in questi anni è il discorso dell'autonomia energetica infatti se andiamo a vedere sull'autonomia energetica la situazione attuale oggi per l'Europa è questa questa è la totale dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili però attenzione che una transizione energetica e quindi basata sulla necessità di materie prime critiche non ci risolve il problema a oggi con le tecnologie oggi della dipendenza altrettanto totale delle nostre materie prime critiche da fuori Europa contemporaneamente che succede succede che la domanda di materie prime critiche ha un'impennata negli scenari in tutti gli scenari tra quali 2050 si impenna questo è un altro rapporto che è focalizzato sulla transizione energetica in Olanda ma attenzione che vuoto per pieno e poi lo vedremo potete traslare questo quadro che va bene per l'Olanda per tutti quanti e in questo quadro vedete come qua sono elencate le materie prime critiche necessarie alla transizione energetica per concentrarsi su uno che è stata una di queste che è stato citato il litio per esempio vedete che in un paese come l'Olanda al 2050 un paese come l'Olanda che attualmente consuma lo 0,5% di energia globale con in funzione degli scenari di transizione energetica più o meno spinta ma nel caso di transizione energetica spinta in Olanda beh al 2050 andrebbe a consumare avrebbe bisogno no andrebbe a consumare avrebbe bisogno del 15% del litio di tutta la produzione mondiale di litio di litio attuale lo vedete anche qua più in generale a sinistra il grafico questa è un'elaborazione di cassa depositi e prestiti su n materie prime critiche non soltanto quelle relative alla transizione energetica ma anche quelle relative alla transizione energetica la prima se ricordo bene da qualche parte c'è il litio ah sì è il primo abbiate pazienza da qua non vedo bene il primo questo è al 2030 non al 2050 l'aumento di produzione necessario rispetto al 2010 e per il litio dovete andare a vedere l'asse sulla destra perché su quello di sinistra va fuori scala cioè su quello di destra vediamo che al 2030 sarà necessaria la domanda sarà 25 volte la produzione mondiale di litio del 2010 ma nel frattempo i costi se ne parlava prima di domande offerte i costi i costi si impennano lo vedete a destra questi non sono scenari questi sono le borse dei materiali mondiali in particolare quella americana e quella cinese e quasi qua c'è il qua c'è il litio alla borsa di Pechino che nel 2020 mi sembra o 2020 2021 insomma negli ultimi due anni costava 50.000 yuan a tonnellata e oggi due anni dopo costa 500.000 yuan a tonnellata e questa soltanto in questi due anni e qua io non ho portato dati sullo scenario di permeazione delle tecnologie sulla mobilità elettrica e quindi sulla domanda di litio e cobalto ma c'è da mettersi ovviamente le mani nei capelli abbiamo possibilità di ridurre questa sì certo che sì è una tra le principali non solo vedremo una tra le principali è certamente il discorso del riciclo con il riciclo possiamo abbassare anche in maniera significativa la richiesta di ulteriore produzione di materiale di materiale vergine e vedete qua per quanto riguarda in particolare la materiali prima materiali 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 critiche che si trovano nelle tecnologie energetiche vedete l'impulso all'utilizzo di materia prima secondaria nelle tecnologie energetiche che viene proprio dalle date in cui si attendono i primi fine vita delle tecnologie energetiche penso ai pannelli ma non solo penso al 2030 penso al 2040 sul no penso pensano scusate penso pensano al 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 2040 per quanto riguarda la mobilità elettrica quando al 2040 andrà in fine vita milioni di veicoli di veicoli elettrici vedete che solo del litio è stimato che la necessità di aumentare la produzione di 13 volte può essere abbassata anche a 8 volte questo sulle tecnologie sulle tecnologie energetiche ma in generale il discorso del riciclo noi sappiamo che se come Europa siamo poveri di materie prime siamo poveri di miniere in Italia siamo il paese tra i più poveri dei paesi europei per quanto riguarda il discorso delle miniere importiamo la quasi totalità di materie prime critiche ma le nostre città sono delle vere e proprie miniere a cielo aperto e allora il discorso dello urban mining altro discorso che è stato accennato su queste prospettive diventa assolutamente fondamentale a livello generale e a livello particolare per quanto riguarda la transizione energetica per esempio per quanto riguarda due settori come quelli dei RAE e dell'automotive in cui si è appunto appena adesso la tavola rotonda sia Flutero che che Dossena hanno parlato abbondantemente e questo diventa cruciale esiste solo il riciclo? no perché è sicuramente uno degli aspetti più significativi con cui possiamo contribuire alla transizione energetica tramite circolarità ma non è l'unico vedete questo sempre uno scenario per l'Olanda ma che può essere applicato a livello globale questi sono gli scenari sempre per materie prime critiche funzionali alla transizione energetica in cui oltre al riciclo ci stanno tutte le cosiddette altre R cioè ripensare riparare riutilizzare ridurre altro un po' convitato di pietra di tutti però è stato accennato anche qua con i comportamenti gli approcci culturali eccetera ma ridurre la R è più importante e vedete come su molti su alcuni diciamo almeno la parte in grigio è la domanda che rimane cioè la domanda di materia primavergine che rimane che a livello globale in Olanda è stimata essere andare dai 33 milioni di tonnellate di materie prime critiche necessarie alla transizione energetica al 2050 si riduce a 14 dispiegando diciamo tutte le azioni di economia circolare fino adesso io ho parlato del contributo dell'economia circolare alla parte del 55% ricordate la MacArthur cioè della produzione di energia questa parte cioè il recupero il ripensamento sulle materie prime critiche è necessario per le tecnologie energetiche quindi per la mitigazione per ridurre però poi abbiamo l'altra parte il 45% in particolare quel 25% relativo all'utilizzo esclusivo di risorse e di materie e allora anche qua qua sono stimati i contributi vedete questi blocchi allora l'ampiezza dei blocchi corrisponde al contributo in emissioni di CO2 equivalente evitate per la singola azione di economia circolare sul singolo settore mentre l'altezza dei blocchi è relativo al risparmio di materiale dalla stessa azione sono azioni evidenti evidentemente che abbracciano tutte e quattro tutte e cinque ne potremmo fare tante di R cioè dal ripensamento e quindi ecodesign ecoprogettazione fino ad arrivare al riciclo che garantiscono appunto queste emissioni risparmiate e questo consumo di materiale risparmiato tenendo conto che il blu è l'edilizia il rosso è la mobilità e il verde è l'alimentazione sono i settori principali di intervento per cui immaginate una politica che punti alla rigenerazione dei territori ma urbana in particolare che è associata al discorso di consumo di suolo zero potrebbe essere un formidabile volano anche per la nostra economia perché tutti noi abbiamo presente come il settore edilizia sia direttamente correlato al volano della nostra edilizia l'industria l'industria non è tra quei tre settori ma non è meno significativa certamente proseguirà tutto il suo discorso di decarbonizzazione però c'è un settore e qua abbiamo sentito alcuni esponenti dei consorsi relativi che sono cosiddetti settori dove le emissioni sono difficili da abbattere cioè i cosiddetti settori hard to abate tra cui l'acciaio che abbiamo sentito beh infatti in questo caso McKinsey stima che le emissioni globali europee di questi settori e cioè acciaio alluminio plastica e cemento rimangono tutto sommato a livello di a livello di oggi intorno al mezzo miliardo intorno al mezzo miliardo di tonnellate e l'abbattimento di emissioni in questi settori a tecnologie attuali sembra possibile soltanto da interventi spinti di circolarità certamente sul riciclo che è significativo ma non solo sull'efficienza dei prodotti e sul soprattutto anche sui nuovi modelli sui nuovi modelli di business l'ultimo slide di dati e poi vado brevemente alle politiche e due commenti di conclusione è questo ritorniamo sulla prima slide cioè 55% transizione energetica 45% non emissioni dovuta dal non energetico in questo grafico che vediamo che in nero è l'andamento del consumo di materiali nel business as usual con le previsioni di circolarità in rosso l'andamento delle emissioni nella prima riga tratteggiata sono morti tutti ah no questo no per fortuna ripreso nella prima riga tratteggiata è il business as usual nessuno intervento la seconda riga tratteggiata questa qua rappresenta la completa transizione energetica resta possibile grazie anche al supporto circolare sulle materie prime critiche e la terza riga tratteggiata è la transizione energetica più la circolarizzazione della società se andiamo a vedere le temperature stimate da queste transizioni vediamo che la sola transizione energetica porterebbe un aumento globale della temperatura al 20 50 intorno ai 2,8 gradi ben lontani da tutti gli obiettivi europei che ci siamo dati e soltanto con il pieno supporto di una piena transizione circolare possiamo andare a un aumento globale della temperatura che è stimata tutt'oggi intorno all'1 1,7 1,8 quindi lontano dall'1,5 ma sotto ma sotto i due gradi le politiche brevemente cosa stiamo lo sappiamo è inutile citarle è inutile parlarci parlarci troppo l'abbiamo detto il Green Deal che non a caso si parla di investimenti di una società per una società decarbonizzata circolare mantenendo i due pilastri mantenendo i due pilastri insieme l'action plan l'ultimo il secondo piano d'azione dell'economia circolare e le gambe su cui marciare cioè Next Generation EU gambe su cui marciare cioè il budget i finanziamenti questo le conosciamo forse conosciamo un po' meno lo sforzo europeo sul discorso materie prime critiche e vedete la tutte le iniziative degli ultimi cinque anni praticamente dell'Unione Europea per le materie prime critiche fino ad arrivare al piano d'azione sulle materie prime critiche del 2020 e il Critical Role Materials Act che proprio in questi giorni mi dicevano se non è vero non venitemi a cercare però mi hanno detto che il 14 marzo verrà finalmente pubblicato dall'Unione Europea il Critical Role Materials Act in Italia sappiamo bene tutto quindi io non non mi metto anche qua in Italia cito soltanto il discorso delle materie prime critiche perché finalmente dopo anni anche su questo settore come sempre il nostro paese sta cominciando ad occuparsene cito per esempio c'è un coordinamento Mimit Mase che ha già attivo ma adesso lo lancia pubblicamente un tavolo nazionale sulle materie prime critiche in cui ci sono quattro gruppi di lavoro vari stakeholders di cui alcuni ovviamente anche qua quattro gruppi di lavoro di cui per quanto mi riguarda il terzo e il quarto particolarmente importanti ecodesign e urban mining e non come le male lingue potrebbero pensare dice visto che lo coordina Enea ti credo che dici no ma perché penso io come scientist penso che va fatto ricerca e studio su tutto su tutto quindi assolutamente però penso che per la situazione italiana il mio pensiero è che il discorso dell'ecodesign e dello urban mining piuttosto che delle nuove prospezioni minerarie che pure assolutamente investigiamo però io sono abbastanza convinto che la strada da seguire è l'ecodesign e lo urban mining chiudo sull'ultima slide che forse mi prenderà un minuto di più perché perché fino a qua stiamo a livello di scenari di parole di intenzioni ma l'ultima slide rappresenta o almeno avrebbe dovuto rappresentare le prospettive concrete future almeno nel nostro paese e cioè il piano nazionale di ripresa e resilienza il PNRR che è lo strumento appunto di Next Generation sono le gambe italiane con cui noi andiamo e se volete competiamo con gli altri con gli altri paesi per il per il futuro stiamo parlando di economia circolare beh se parliamo di PNRR ed economia circolare dobbiamo dire come dappertutto come sempre ci sono luci ed ombre in questo caso forse le ombre sono un pochino più molto di più delle luci qual è la luce? La luce è il fatto che finalmente dopo tanti anni il nostro paese si dota anche il nostro paese si dota di una strategia nazionale dell'economia circolare ma anche questa luce ha una ombra insita in se stessa che è dettata dal fatto che però non ci sono assolutamente nessun a tutt'oggi nessun investimento nessuna risorsa allocata per l'implementazione o per la trasformazione della strategia in un piano d'azione dell'economia circolare e quindi bruttissima parola però per mettere a terra la strategia che senza risorse corre il rischio di rimanere un libro dei desiderati un libro dei sogni o se volete un enorme cervello senza gambe e senza muscoli quindi e poi ci sono le ombre altrettanto pesanti qua stiamo parlando di un investimento del nostro paese di 220 miliardi sono state dette tantissime cose l'investimento che facciamo anche sulle nostre generazioni future in termini di indebitamento eccetera eccetera se falliamo va bene che saremo morti tutti quanti e non ci possono venire a riprendere però ci dovrebbero venire a riprendere col forcone i nostri figli e i nostri nipoti beh da questo punto di vista su 220 miliardi avere un quadro di economia circolare come sempre di più ci stiamo convincendo tutti ma come anche nel PNRR italiano all'inizio nelle enunciazioni il posto sull'economia circolare è ben è ben messo beh investire soltanto l'un per cento del totale è veramente è veramente niente è veramente vuol dire veramente predicare bene e razzolare non male ma ma di più declinare inoltre l'azione di economia la linea di attività di economia circolare praticamente esclusivamente dal punto di vista dei rifiuti anche se è relativa all'impiantistica e lo dirò l'impiantistica è una delle cose che ci serve più in assoluto nel nostro paese quindi va bene l'impiantistica però culturalmente declinarla come esclusivamente dal punto di vista dei rifiuti è un errore sia strategico che soprattutto culturale sul discorso culturale qua è stato detto è stato detto molto lo stesso Andrea Plutero molto bene ha parlato proprio di di approcci culturali al concetto di rifiuti eccetera va bene è stato detto moltissimo e giustamente sui comportamenti culturali ma io aggiungerei anche sui comportamenti non sui comportamenti ma sulla visione nostra dell'economia circolare e soprattutto sulla visione dei nostri decisori politici dei nostri decisori politici perché se noi continuiamo a pensare all'economia circolare come un settore della società solo un settore della società e la leggiamo con le leggi economiche fatte da questo attuale modello questo attuale modello economico allora c'è ragione il collega il collega Zerbino a lanciare warning sull'effetto rebound perché se è tutto dominato dalla domanda offerta e dal mercato che regola certamente c'è un grosso rischio di rebound ma economia circolare è un cambio di paradigma qualcuno l'ha detto è un cambio di modello economico non c'è niente da fare ci dobbiamo rassegnare l'economia la transizione circolare presuppone un modello economico che non ci impone non ci induce di avere due macchine a famiglia e se me lo posso permettere me ne compro quattro perché così anche uno status quo questo è il problema è un altro modello economico e in questo altro modello economico ecco io pur non essendo un esperto del settore credo proprio che l'effetto rebound sia molto ma meno quindi là il problema non è tanto l'effetto rebound dell'economia circolare quanto convincere tutti noi ma i nostri decisori politici e la società che se parliamo di transizione circolare dobbiamo parlare di transizione verso un nuovo modello economico senza se e senza ma e senza entrare in merito a modelli economici già esistiti non sto parlando di capitalismo o economia di stato eccetera non lo so non sono un economista so soltanto che stiamo parlando di un nuovo modello economico brevissimamente quindi tutto quello che serve lo vedete qua mi soltanto un discorso fondamentale che manca nel PNRR la transizione industriale su questo è data specialmente nel nostro paese dalle piccole e medie imprese perché la grande industria i grandi player la transizione circolare la sta già facendo e la sta facendo con profitto ma è là che dobbiamo puntare sul PNRR non c'è assolutamente nulla per quanto riguarda l'aiuto alle nostre piccole e medie imprese che da sole dico una battuta non sanno manco cos'è l'economia circolare ma giustamente ma giustamente non hanno non hanno strumenti chiudo dicendo che cosa serve che cosa servirebbe lo chiudo a mo' di slogan e mi perdonerebbe certamente prima di tutti serve una grossa innovazione di sistema un'innovazione di governance e permettetemi di dire ma mi ci metto anch'io un'innovazione della classe dirigente classe politica è troppo facile dirla ma della classe politica e classe dirigente del nostro paese che avverrà perché se questi percorsi dovranno andare avverrà necessariamente perché se no non avverrà se no non avverrà il percorso serve lo dicevo prima una grande dotazione infrastrutturale impiantistica di un nostro di questo paese che è assolutamente povero di impianti servirebbe ma qui lo diciamo da 30 anni servirebbe una politica industriale in questo paese che latita da 30 anni e una politica industriale oggi che sia green e sostenibile e infine e questo si lo dico prodomo e lo dico prodomo mia servirebbero fortissimi investimenti e finanziamenti a ricerca e innovazione ma non così tanto per slogan per una banalità consentitemi di chiudere per una banalità fin quando si trattava di competere sul business as usual noi come italiani che abbiamo grandi risorse di inventiva grande tradizione viviamo di rendite eccetera siamo riusciti a competere anche finanziando la ricerca e innovazione del nostro paese a livello praticamente più basso dei paesi europei ma se adesso la partita è che andiamo a concorrere per un nuovo modello a competere su un nuovo modello di società a fortissimo tasso di innovazione e di tecnologia continuare a investire in ricerca e innovazione del nostro paese al più basso livello in Europa è puramente follia se non miopia grazie 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 Roberto Morabito di Lenea io invito quindi Riccardo Piunti per la conclusione di questa giornata di lavori e per tirare le ultime somme della giornata non vi preoccupate non farò conclusioni io voglio solo ringraziare tutti perché credo che anche parlare di queste cose sia importante Morabito parlava di figli e di figli c'erano cinque quindi bisogna preoccuparsi un po' del futuro insomma non vorrei trovarmi al punto che qualcuno rivendicasse ma voi non avete fatto niente quindi cerchiamo di fare siamo un club di falegnami che lavorano a questo tavolino a tre gambe che ho cercato di evocare all'inizio da una parte c'è la transizione energetica dall'altra c'è l'economia circolare e dall'altra c'è il cambio dei comportamenti del modo di operare delle quattro macchine che devono diventare una forse due forse nessuna quindi questa è la nostra partita un'ultima solo un'ultima osservazione i segnali forse ancora deboli ma anche il nostro paradiso italiano sta subendo qualche contraccolpo io parlavo con un vinificatore che ha una vigna in Emilia Romagna aveva dei problemi e stava arrabbattandosi da anni per combattere contro quello che sta succedendo la scarsità d'acqua la siccità quindi anche le cose belle della nostro paese si vanno via via perdendo quindi dobbiamo ricordarci che fra un po' ce ne accorgeremo proprio sulla pelle di quello che sta succedendo quindi ripeto siamo un piccolo gruppo del club dei falegnami di questo grande tavolino cerchiamo di lavorare tutti insieme tutti compatti e di trovare altri lievi falegnami che ci aiutino perché credo che sia importante per i nostri figli per il futuro anche di questo paese io vi ringrazio tutti quelli che sono venuti non sto a nominarli ringrazio per la disponibilità per essere venuti per essersi adoperati per aver preparato delle presentazioni ringrazio anche chi è venuto diciamo a sentirci lavoriamo insieme perché chi fa energia chi fa economia circolare e chi anche fa comunicazione o prende decisioni a livello politico sono tutti della stessa partita non possiamo lavorare separati grazie a tutti grazie infinito grazie a tutti